eccoci buonasera maurone zingarelli come stai buonasera buonasera a lei tutto bene allora vuoi sapere senti sentiamo allora intanto diamo il benvenuto a tutti quanti oggi lunedì primo giorno nella settimana e come primo giorno nella settimana io e mauro de base all'inizio se dovevamo lamentare la vita poi cominciamo a dire cose vai a ora quanta gente sta arrivando di botto è tutta una volta dai dai lamentiamoci ora lamentiamoci giovanni cosa che cosa ho provato lebbrezza di tornare a fare oggi dopo tanto tempo io ho visto delle storie sul tuo instagram però non oggi tipo le ieri ne parliamo tra un po oggi cosa è ricominciato a fare che cosa è successo domenica anzi sabato io sono chiuso a casa da una settimana quindi lo so se chiuso a casa una settimana perché a perché c'era questo problema in studio sappiamo tutti che c'era marco cioni che era radioattivo probabilmente lo ancora lo è ancora onestamente non lo sappiamo adesso va a controllare la sua radioattività in questi giorni e quindi se siamo chiusi a casa noi abbiamo controllato la nostra siamo negativi e quindi non siamo radioattivi e però io sono stato a casa oggi però sono uscito un'ora bravo bravo meno mezz'ora tipo 40 minuti sono uscito perché sono dovuto andare a comprare il liquido delle sigarette elettronica che era finito infatti ora stasera mentre tu chiacchiere io devo fare il liquido della sigaretta elettronica te lo dico esatto invece io a proposito di questo no eri successo è successo è stato di marco in generale sintomo del fatto che sta succedendo sempre più spesso e quindi si è arrivato alla situazione attuale delle varie chiusure e quindi questo significa che oggi oggi io per la prima volta dopo tanto tempo ho di nuovo fatto palestra a casa che palle ma come che palle la palestra non è una cosa sociale cioè è per per fare la palestra vi organizzate la fate a casa io non so cioè sulla luna hanno trovato un sacco d'acqua bro dice fraff 0 0 ho letto ma io mi ha lasciato a proposito dell'acqua a proposito del ritorno in quarantena vi faccio vedere questo meme che mi ha mandato fiorenza che mi faceva che mi ha fatto molto molto ridere e vediamo se si legge non si vede niente si vede che c'è un tizio con una pizza ma non si vede cosa c'è scritto vabbè michael jordan che dice vediamo se mi ricordo ancora come si fa è l'immagine di una pizza fatta in casa allora intanto grazie giulia bonini benvenuta che questa sera ha già regalato cinque abbonamenti grazie mille giulia come sempre allora ragazzi e quindi ma io non allora io non faccio palestra dalla quarta elementare tipo una cosa del genere forse forse avrò fatto uno due giorni di palestra in quinta elementare basta che cambia fare la palestra a casa va bene non c'hai gli stessi attrezzi prima di tutto prima di tutto ma gli stessi attrezzi e casa mia un buco quindi non posso neanche comprarmeli ovviamente in un angolo quindi oggi il complello di necolune auguri e quanti anni vogliamo sapere quanti anni esatto bisogna sapere quanti anni quindi il primo primo problema è che non essenzialmente non puoi non puoi usare gli stessi attrezzi quindi non hai la stessa varietà è ok questo diventa un problema perché non esiste sono pochissime le persone a cui piace fare palestra davvero la maggior parte delle persone lo fa perché deve esercizio poter variare poter avere tanti attrezzi poter fare cose diverse poter cambiare il peso poter ti permette quantomeno di trovare una qualche sfida una qualche gioia doverlo fare a casa significa doversi inventare nuove maniere per appendersi al muro al soffitto o sulle sedie perché non c'è nessun'altra maniera di farla ed inoltre ti passa proprio la voglia che non c'è neanche quella cosa esci di casa sai vado a farmi la doccia fuori tu esci e rientri intanto grazie ago zz ha regalato un abbonamento e la fortunata è dei beauty lounge che è una nostra sta sempre qui debì di lounge ci segue fin dall'inizio io la conosco conosco anche il mio canale e qui dice la palestra a casa in realtà è molto soddisfacente più o meno nel senso più o meno cioè io sono più costante quando faccio palestra a casa perché mi richiede meno tempo perché mi leva una buona mezz'ora di spostamento doccia eccetera però è anche meno variegata soprattutto se fai sollevamento pesi e quindi non è che fai due jumping jacks e sei a posto ma comunque devi spostare grosse quantità di peso diventa difficile fare il divano cose con l'elastic band tira sul divano ti metti lì prendi il divano tiri su cioè che ne so comunque allora a questo punto visto ho capito qual è il vostro problema adesso chiamiamo guglielmo scilla anzi chiamiamo gabriele chiediamo se riparte il fisico da covid a questo punto visto che quello rendeva allenarsi con il fisico da covid in casa rendeva tutto quanto in fissa quindi riesco a spingere lo stesso e mi stanco molto prima sarà anche l'aspettativa sociale in paese tutte le persone intorno e quindi adesso prendo e carico questa panca al cannone non lo so non ho idea comunque c'è un sacco di gente che qui tira fuori i termini tecnici che di solo tiri fuori di tu che io sempre mi trovo beh questo è fissato ma non lo so ovvero io guarda mauro puoi fare mauro potresti guarda cioè cose e quindi prendi le kettlebell ragazzi dove le metto io c'ho questa stanza quel corridoio e quella poi è la cucina nel senso casa mia è finita c'è nient'altro c'è un posto di mettere tutta questa attrezzatura e aspetta che mi locale fine così dicono che mi vedono un po fuori i sink io ero sicuro di questa cosa anche perché non è vera comunque però dicono mi vedo un po fuori i sink ragazzi è la vita che vi devo dire allora mauro ecco quindi niente oggi di sella è nata a casa fatto petto hai fatto hai fatto fatto il petto petto de bollo esatto invece quello a cui ti riferivi ieri seguendomi su instagram è che ho girato un piccolo cortometraggio ho girato un cortometraggio di di halloween e quindi uscirà entro tre giorni perché perché niente è un po è un po rosichiamo e l'altro invece corto di halloween ce l'hai in mano tu giovanni sì che ricciotti continua a dire che sta aspettando sai qual è la cosa bella che ho scoperto ieri di la giovanni è in studio a perfetto perché quando andrea ricciotti me l'ha portato eravamo in studio io l'ho copiato in un hard disk che è rimasto in studio beh e quindi e quindi domani è perché oggi mi sono illuminato stamattina dicendo azzo e quindi domani vado a prenderlo in studio fra l'altro c'è nicola dc89 che dice vieni con me in fabbrica vedrai che non ti serve la palestra ma sono due cose diverse la cosa no questa è quella battuta da maschio vero no capito da maschio però sono proprio c'è nel senso ma ma non lo so non lo so io ormai è un po di tempo che faccio palestra diventa difficile dopo un po diventa molto ripetitivo e quindi non avere la il vantaggio di poter variare fare attrezzi diversi cose diverse diventa 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 un po diventante ma non parliamo di palestra che no basta questo non è il canale twitch di danny lazarin altrimenti chi vabbè giovanni ok basta allora c'è carmi che dice sono abbonata due mesi non mi fa entrare nel cane telegram allora nel canale dovresti poter entrare anche subito non appena ti abboni e se vuoi entrare nel gruppo telegram cioè quello dove c'è la chat in quel caso devi aspettare di essere al terzo mese non al secondo poi allora cosa si parla in questo canale questo è come live hanno fatto che è un po un'estensione dei video di come cazzo hanno fatto un po sono giovanni santo uscite mauro zingarelli che parlano dei cazzi però no che raccontano quelle che sono le loro le loro le nostre vicissitudini col mondo del cinema il nostro essere curiosi del mondo del cinema il nostro cercare di capire ogni volta che vediamo una cosa pazzesca esatto fino a quando ancora in piedi e vabbè facciamo diciamo così cambiamola un po nel mondo dell'audio video esatto forse al momento è meglio nel mondo dell'audio video di per cercare di capire come cacchio fanno determinate cose perché ogni volta che vediamo un film adesso stavo per dire andiamo al cinema ogni volta che vediamo un film ti viene sempre da pensare ma come cazzo hanno fatto questa o quell'altra cosa a volte la spiegazione è molto e tremendamente semplice a volte invece è molto più complessa e molte volte ci sono delle cose che nessuno immagina neanche intanto ringrazio marouken che ha donato un euro e dice ciao mauro ciao giovanni siede granio una domanda per voi come hanno fatta già la scena di combattimento clandestino con robert downy junior nel primo sherlock holmes di gai ricci è una domanda che fanno spese menavano e basta è una domanda che ci fanno spesso nello specifico devo ancora farlo un bel come cazzo hanno fatto su quel sherlock holmes segno fin di gai ricci ci sarebbe il dove c'è tutto segnato me lo segno però molto dallo superi cico quella roba lì sono in i super slow motion e sono fatti con una macchina da presa specifica che si chiama phantom la phantom camera e la phantom camera è una macchina da presa speciale che è fatta per arrivare ad altissimi frame ora diverse migliaia arriva di farò che era una segnamento e ora cerco di spiegarlo per perché magari io tanto tanto per scontato che molti abbiano delle conoscenze che non hanno un secondo di filmato è formato da 24 fotogrammi esatto che vuol dire che ogni secondo di video in realtà sono 24 foto messe una di seguito all'altra essenzialmente una legge ognuna leggermente diversa con la precedente che danno l'idea del movimento quindi se io invece di girare a 24 fotogrammi al secondo giro a 48 fotogrammi al secondo ecco la scena intanto giro a 48 fotogrammi al secondo e poi lo rallento finirò ad avere essenzialmente il doppio dei fotogrammi quindi posso scegliere di mandare quel secondo che girato a 48 fotogrammi al secondo oppure posso scegliere di mandarlo in play a 24 fotogrammi al secondo e averlo rallentato di due volte essenzialmente questa cosa ovviamente va moltiplicata per ogni volta che tu riesci quindi nel senso che ne so se giro a 240 fotogrammi al secondo posso rallentare l'immagine di dieci volte eccetera 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 no poi non gira come venuta girata la scena di per sé è ovviamente coreografata quindi non è che però nello specifico quello che fanno queste camere che quindi rallentano talmente tanto la la il movimento che arrivano ad un ad un tipo di movimento che per noi è completamente innaturale quasi quasi magico se andate a cercare gli slomo guys sono un famosissimo canale youtube famosissimo sì che praticamente fa solo questo gira con le loro phantom loro hanno delle phantom e le usano per girare tutte quante le loro le le cose sul loro canale youtube e fanno tutte queste e si chiamano se non le guys proprio perché vanno in slow mo quindi slow motion è giusto per chiarire vai 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 finisci loro uno di loro infatti ha lavorato al sequel e ha spiegato come hanno fatto a fare la scena hanno spiegato ma hanno fatto a fare la scena quella lì del della corsa della fuga nel bosco perché la gira da lui bellissima quella che lavora nel campo del del cinema perché ha di proprietà queste macchine da presa e costano tantissimo e le affitta come operatore che una cosa che poi si fa spesso la stessa cosa fanno più o meno gli operatori stedicam gli operatori stedicam si fanno pagare relativamente di più di quanto si fa pagare un operatore normale ma perché portano la propria attrezzatura sul set quindi ogni volta un operatore stedicam va su un set si porta dietro la propria stedicam e se la fa affittare aggiornata quindi insomma come dice anche floating thoughts giustamente ci sono anche per il fai da te dello slow motion quello pesante dei software dei plugin che creano dei fotogrammi intermedi cioè quando non si ha la possibilità di ovviamente utilizzare una phantom che solo a noleggiarla costa migliaia di euro al giorno e a comprarla dio solo sa quanto c'è questo plugin il più famoso si chiama tweak store che praticamente ricordo lo usavo tanto tempo fa però in pratica quello che succede è è la soluzione da boracci come si suol dire cioè non ce l'hai quella qualità algoritmo quello che tweak store fa e allora seguendo il discorso di prima se io ho girato a 24 fotogrammi al secondo quindi non ho girato a fotogrammi in più e decido di rallentare di due volte la mia immagine a questo punto avrò un'immagine va a 12 fotogrammi al secondo 12 fotogrammi al secondo non sono abbastanza no mi si muoverà a scatti non sembrerà un video sembrerà una serie di foto una dopo l'altra quindi che cosa fa tweak store tweak store usa un algoritmo per elaborare calcolare delle immagini intermedie dove mancano quindi nel senso in questo caso 24 fotogrammi al secondo diviso 2 diventerà quindi che si deve inventare 24 fotogrammi no e il problema è che funziona solo in delle condizioni molto molto specifiche nel senso tweak store funziona quando l'immagine molto nitida quando è il fondo sul quale sul quale contro il quale si muove il soggetto che va mandato in slow motion è molto molto chiaro non chiaro pulito non c'è niente già se c'è una texture se c'è un pattern il programma si confonde perché ovviamente non giustamente è comunque visto che non è fatta in ripresa è un effetto speciale in pratica è come se realizziamo un effetto speciale come tutti gli effetti speciali hanno bisogno di determinate cose in sessione di ripresa per poter funzionare per poter funzionare al meglio comunque se lo volete vedere credo che di tweak store per chi si diletta un po nel montaggio ci dovrebbe essere anche una versione di prova oppure se cercate su youtube tweak store ci sono delle delle cose allora mauro ken ti ringrazia per la spiegazione ma quindi pugni sferrati a robert danni union servizio dell'avversario sono veri sì ma ovviamente non gli carica cazzotti a quella velocità lo fa in maniera comunque lenta e poi io credo che ci siano anche delle cose esagerate io potrei contraddirmi poi quando faremo l'episodio però così ha intuito direi che il alcuni i movimenti della faccia di robert danni giugno siano fatti in digitale e altre cose invece siano fatte dal vivo nel senso dovete sempre fare caso a queste cose ce ne parlava luca della grotta che è venuto ospite al podcast la settimana scorsa luca della grotta e francesco da fano che sono i due registi di trash un film d'animazione italiano che trovavate al cinema fino a qualche giorno fa purtroppo e però penso lo troverete presto in non demand sicuramente e il film che loro hanno fatto è un film d'animazione in cgi con i fondali reali quindi loro hanno girato davvero i fondali di tutto quanto i luoghi dove di tutti quanti luoghi dove i personaggi in cgi poi si sarebbero mossi e poi hanno aggiunti solo i personaggi e noi gli abbiamo chiesto come avete fatto a scegliere quali erano le cose da fare in digitale quali erano le cose che invece avreste girato reali con le quali loro interagivano quali le cose avete mosso con definita pesca e quali le cose avete ricostruito e loro hanno detto non abbiamo mai usato una regola specifica perché in quella maniera confondi lo spettatore perché altrimenti lo spettatore si accorge di ciao che ogni volta succede questo è digitale ogni volta succede questo è reale lo stesso vale per la scena di combattimento nel senso ci sono delle cose che sono reali perché si possono fare quelle delle cose non si possono fare sono digitali però magari non se ne accorge nessuno e mi ricordo se qualcuno ha visto ha visto power il non il content creator di twitch ma il film originale netflix c'è una scena in cui joseph gordon lewitt riceve un proiettile sulla sulla tempia e essendo lui completamente invincibile il proiettile lo colpisce e crea semplicemente quell'effetto mega slow motion della pelle che si sposta l'onda d'urto tipo l'onda d'urto esattamente ho visto come l'hanno fatta quella praticamente c'erano una serie di marker una serie di puntini disegnati sulla faccia di joseph gordon lewitt e poi con una fortissima pistola ad aia compressa gli hanno sparato una grossa quantità d'aria in faccia gli hanno creato solamente l'onda d'urto in faccia poi il proiettile è stato aggiunto in digitale è stato aggiunto in digitale qualcuno giustamente music casus dice proiettile sparato dall'altro power giusto probabilmente sì con un car probabilmente a 300 km di distanza poi c'è una domanda di dipu rispondiamo perché questa la sappiamo molto semplice che dice mi sono sempre chiesta come cazzo hanno fatto a fare la scena dell'oracolo di 300 credo che te la ricordi dove la ragazza che fa l'oracolo a tutte le vesti capelli che si muovi in maniera fluida come se fossero sott'acqua sta sott'acqua yes sta dentro una vasca di base che ovviamente poi in digitale è stata eliminata è stata cancellata ma la ragazza è realmente immersa dentro una vasca piena d'acqua e quindi quell'effetto viene proprio così non so se c'hai dettagli mauro ma sostanzialmente ciò che è quello perché in realtà 300 come raccontavo qualche tempo fa è stato proprio il mio primissimo blu ray quindi lo vidi secoli fa e poi non l'ho mai più rivisitato quindi ricordo di averlo visto ma non ricordo intanto ringraziamo madtoni 92 che dice bella raga un come cazzo hanno fatto sull'uomo bicentenario anche se già immagino un po vorrei sapere da mauro i dettagli prima o poi forse ed edith michelle ha donato tre euro e dice mauro che spiega le cose è la pace dei sensi e addirittura mauro sai che ci sono quelle persone che non si sa perché non si sa per come quando parlano danno tranquillità si vede che tu su queste persone c'hai questa cosa io io e te parliamo di cinema molto spesso quindi questa cosa non la noto però stasera che film portate allora abbiamo un po di avanzi di varie cose nel senso spiderman è avanzata ancora tanta roba di cui non abbiamo parlato nello specifico delle cose piccole che se le avessi mettete avanti a marca avrebbe sicuramente rotto le palle e quindi spazziamo un po quella magari ci vogliamo vedere il il come si chiama il vfx breakdown di parasite di parasite che è molto interessante che sembra un film in cui non ci siano non ci sono effetti effetti digitali invece ce ne sono un botto essenzialmente comunque in realtà per giusto per chiudere una cosa diciamo prima io ieri ho girato questo corto di halloween giovanni e quindi finirò di montare entro halloween perché dovrà uscire entro ed è molto 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 carino non il corto nel senso il corto lo vedrete voi mi direte se è carino però il lavoro di tutti è stato molto molto carino nel senso tutte quelle persone le persone ci hanno lavorato hanno fatto lavoro incredibile nonostante siano state avvertite pochissimo prima e niente quindi poi lo verrà caricato su youtube il giorno di halloween lo vedrete tutti quanti su halloween su halloween su youtube e poi lo rivedremo insieme sul mio canale twitch lo e parleremo un po di tutti come cazzo hanno fatto del del corto non lo specifico io mi prendo un minutino per dirvi una cosa che molti di voi già sanno e altri magari no scusa mauro se rubo questo minuto alla live ma è una cosa di slim dogs allora intanto rinnovo i ringraziamenti che già abbiamo fatto su instagram per il watch party di ieri sera stato bellissimo abbiamo visto tutti quanti insieme il ritorno al futuro fico veramente fico io ritorno al futuro ho visto un milione di volte però vederlo con adriano marco e matteo collegati in camera e le persone in chat che commentavano il film per tutto il tempo è stata una cosa veramente figa lo rifaremo come sapete benissimo perché l'abbiamo già detto diverse volte ieri l'abbiamo confermato ne faremo uno al mese di watch party e il prossimo già è stato scelto il tema perché il watch party come funziona facciamo una piccola introduzione di qualche minuto dopodiché vediamo il film e subito dopo o ne parliamo o se c'è veramente a parlare tanto del film o in generale parliamo di quel tipo di genere per esempio ieri c'era adriano che ritorna al futuro diceva non l'aveva mai visto tutto so come mai sia possibile quindi ci siamo soffermati anche su questa cosa il tema del per il prossimo watch party sono film action cacaroni de merda è un tema che ovviamente ha scelto il carissimo marco cioni e adesso stiamo preparando qualche titolo per poi mandare il sondaggio nel canale e nel gruppo slim dogs dove potete accedere solo se siete iscritti l'abbiamo detto talmente tante volte che lo sapete e questa è la prima cosa seconda cosa settimana scorsa di giovedì c'è stato tre metri sopra twitch questa settimana questo mercoledì cioè dopo domani ritorna visto che sono una settimana sì una settimana no ritorna opinioni pericolose e per opinioni pericolose di questa settimana ragazzi c'è una sorpresa per cui oggi veramente mi stavo per sentire male abbiamo un ospite pazzesco l'ospite pazzesco è tony stark c'è in pratica mercoledì sera doma dopo domani sera insieme a noi a opinioni pericolose ci sarà angelo maggio il doppiatore ovviamente ufficiale italiano di robert downy junior oggi pomeriggio sono passato insieme a marco ea giacomo boria che saluto che sta qui a fare da moderatore abbiamo passato un'ora a chiacchierare con con maggio lui è veramente una persona fantastica ragazzi c'è super mega disponibile super mega simpatico davvero c'è proprio non vedo l'ora di avere opinioni pericolose questo mercoledì sera alle nove e mezza e angelo starà con noi per tutto il tempo starà con noi dalle nove e mezza fino alla fine sarà ovviamente da giudice nella prima nella prima opinione insieme ad adriano santucci e poi subito dopo per quello che è il secondo turno la seconda opinione sarà lui ovviamente a portarci la sua opinione pericolosa è quasi sicuramente lui oggi ci ha detto di sia al massimo tranne che succeda qualcosa quasi sicuramente sarà con noi anche per il post opinioni pericolose fighissimo quindi tutto il giorno tutta la puntata mercoledì insieme a noi tutto il giorno no tutto il giorno no però tutta la puntata mercoledì insieme a noi ci sarà angelo maggio il doppiatore ufficiale di robert danno yurion non solo ragazzi lui ha doppiato doppia il commissario winchester nei simpson ha doppiato bruce willis in parecchi film uno fra tutti il sesto senso ha doppiato scrivere sulla mia macchina da scrivere invisibile ha doppiato il dottor cox dice macuzzo 97 ha doppiato il dottor cox assolutamente ha doppiato pure lui veramente un sacco di roba e vudi giusto vudi nell'ultimo toy story perché come sappiamo tutti purtroppo il doppiatore di vudi non c'è più quindi basta io ho detto quello che dovevo dire ho fatto il mio minutino di consigli per gli acquisti ma era una cosa è fichissima perché ragazzi mi raccomando non mancate assolutamente questo mercoledì perché sarà una roba fichissima io ho finito per adesso ce l'hai fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta si sono fuori sin che tipo di mille anni sto notando non so perché perché io qua mi vedo pulito però poi vedo di là e sono leggermente fuori no ragazzi ma che non lo so vabbè dai mauro ci sei sì sì io ho finito di fare cose ok allora io volevo parlare di una cosa nello specifico vediamo se riesco a tirar fuori un mauro anche tu sei fuori sinca adesso facciamo una cosa andiamo in pausa un secondo e ricarichiamo la pagina del servizio perché credo che sia il servizio streaming che utilizziamo per le video chiamate che sia andato un po a fanculo un minuto boh vediamo se va adesso dovrebbe andare mauro di delle cose dico delle cose sono fuori sinco sono a sync a questa è una bella domanda lo scopriremo solo vivendo vai andiamo allora io in realtà volevo parlare di una cosa di una cosa che non ho potuto dire cioè ho detto nel come cazzo hanno fatto questa tagliata su spider man e non ho potuto riapprofondire nel come avevano fatto perché un po c'erano ci siete messi a parlare per due ore di quale fosse il miglior film di spider man tra tra allora c'anni e marco noi abbiamo fatto uno speciale una specie di speciale su spider man con i due fomentati di spider man per eccellenza che sono marco e gianni che dai cioè era è andato benissimo ma era ovvio che si parlava principalmente su quale era quello più bello e quello più brutto comunque quello che che volevo dire è che c'è la famosa scena in cui abbiamo visto tom holland che viene appiccicato contro il contro la terra sto cercando perché ce l'ho qui essenzialmente volevo perché oggi ci sono tante nuove tecnologie essere sono forse in grado eccola qui a ecco cosa che sono in grado di farvi vedere delle cose forse se riesco vediamo un po allora vediamo un po andy from from the woods dice il miglior film di spider man into the spider verse io sono assolutamente d'accordo con te al mille per mille e non è un'opinione pericolosa è abbastanza riconosciuta come cosa allora vi faccio vedere un attimo questa roba qui che è tom holland che viene lanciato all'indietro con durante la scena in cui preceve il pugnone in faccia da da dal mostrone fatto d'acqua aspettate che vediamo se riesco ad arrivare alla scena venezia era quella che citavo l'altra volta dove dicevo che c'era lui e veniva tirato con i cavi e scaraventato da una parte eccola qui eccola qui tanto non so se notate l'incredibile tecnologia con la quale adesso sono addirittura in grado di farvi vedere i contributi e posso governarli io una roba che ci sono voluti solo tipo sei mesi e posso adesso posso fare olì e sono tornato io pensa un po che bello comunque stavo dicendo una cosa di cui di cui si lamenta tom holland in questa scena è che l'acqua non era neanche riscaldata è una roba di cui si lamentano spesso gli attori e si lamenta nel senso che rompe le palle o si lamenta nel senso che diceva bella che sento sempre dire nel senso l'acqua era fredda l'acqua era fredda gli attori che hanno con l'acqua col con con lei cappottini perché con i cappottini con le copertone perché l'acqua è sempre fredda e considerando la quantità di cose comode che gli attori ricevono per per il lavoro per il lavoro che fanno mi è sempre semplato strano fino a che non ho visto il making of di un altro spider-man che invece era di amazing spider-man in cui c'è la scena quella lì nel fogne e anche lì parlano dell'acqua e dicono che l'acqua era fredda ma zio ma prova a pensare se lamentavano quelli di titanic ok però nel senso il discorso è effettivamente basta mettere dell'acqua tiepida che cosa cioè qual è il problema non non di riscaldare un problema si la devi riscaldare per insomma si spendono soldi per tante cose più stupide il problema spiegano poi india mesi in spider-man e il vapore quando l'acqua si scalda crea la condensa e si appannano le lenti e non ci ho mai pensato certo è questo il problema nel senso il motivo per cui l'acqua nei nei film e blaze ace of space ci è arrivato prima di me nei commenti e io non ci ho mai pensato magari stupidamente però il discorso è che effettivamente l'acqua era non può essere riscaldata la maggior parte delle volte perché poi invece mi ricordo che per matrix per la scena in cui morpheus viene salvato da nino e ci sono tutti quanti i sistemi anti incendio quella mi ricordo che quell'acqua nello specifico veniva riscaldata proprio per non per non far morire tutti di freddo però niente essenzialmente è una roba che non che non mi aspettavo ecco ti dico io forse perché le cose cioè il film realizzato con la più grande massa d'acqua è stato appunto titanic hanno creato in messico una piscina apposta per contenere quello il modello della nave che avevano costruito che non era esattamente uno a uno ma ci andava vicino c'era comunque una nave molto grande e lì ovviamente tutti diciamo che l'acqua era fredda l'acqua era fredda lì ci passano mezzo film praticamente a mollo soprattutto di capri e la winslet stanno sempre a mollo in realtà a meno da quello che mi ricorda gli effetti speciali non se ne sono mai veramente lamentati non facendo un altro che dire l'acqua era fredda l'acqua era fredda l'acqua era fredda però un po io però c'è allora c'è scritta è scritta una cosa non mi sono da dire per i ragazzi che di 13 con quei mesi spider man 2 che ha incassato poco in caso 710 milioni mentre in tutto spider che è andato bene in caso 350 milioni io non so se la sony si è demoralizzata così tanto però date a è questione di aspettative date anche una regolata di una questione di budget into the spider verse è costato 90 milioni di dollari quindi se ne guadagna 350 ha triplicato il proprio budget considerate anche che spiderman the spider verse è stato un film che è stato pubblicizzato ma non così tanto perché era un film d'animazione e quindi sì ci credevano ma era un film insomma che poteva tranquillamente non non era un film previsto per le grandi masse no non era un film che dovevano vedere tutti e quindi non è stato pubblicizzato in quella stessa maniera mentre a mesi spider man 2 è costato tra i 250 e 300 milioni di dollari senza contare il costo del marketing che sicuramente sono gigantesco perché tutti quanti gli spazi pubblicitari comprati e le interviste fatte nei 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 grossi programmi televisivi e le enormi campagne pubblicitarie e solitamente per un film del genere il ci saranno almeno 150 200 milioni di di marketing quindi si si parla molte volte si parla non meno della metà del budget del film solo per il marketing a volte tanto quanto esatto e quindi il discorso è che a quel punto 730 milioni di dollari diventano il pochi perché sono meno dalla metà nemmeno del doppio quindi sempre stesso discorso spiderman to the spider verse 90 milioni nei trasformi trasforma in 350 milioni a mesi in spider man 2 ne prende 300 più altre 200 di budget di di marketing quindi arriviamo a 500 milioni di dollari di trasforma in 700 è un po questo il problema ed è un grosso problema di tutti quanti i blockbuster essenzialmente cioè è il motivo per cui è un senza che mi addentro troppo nei problemi del mercato cinematografico al momento però il problema è che queste grosse compagnie fanno blockbuster sempre più costosi sempre più costosi sempre più costosi e ne fanno sempre di più e inevitabilmente finiscono a ricadere in una delle due categorie o incassano un panico di soldi tipo giurassic world che incassa un miliardo nel giro del weekend oppure finiscono a fare un mega flop tipo la mummia che invece non incassa niente siamo parlando di due film che per me sono comunque mediocre e però il discorso non è sulla qualità il discorso è che fin così grandi per essere giustificati devono incassare non devono incassare ok non devono semplicemente andare bene devono andare lo devono vedere tutti e questo è il discorso c'è un film che è costato così tanto non può essere un film che lo vedono un tot di persone no 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 lo devono proprio vedere tutti tutti quanti ed è un po problema si è un po poi la storia il marketing sempre varia dipende da tutta una serie di cose poi in questo periodo parlare di marketing veramente cioè quando ripartirà il cinema semmai ripartirà come lo abbiamo sempre visto e non credo perché comunque delle modifiche il settore cinematografico ovviamente le avrà per forza di cose perché adesso è troppo che i cinema sono fermi in italia si stanno richiudendo un'altra volta quindi qualche modifica nel mercato cinematografico quando il mondo ripartirà a funzionare come ha sempre funzionato tra virgolette qualcosa ci sarà qualcosa cambierà e ovviamente cambiando il mercato cinematografico potete stare sicuri che cambierà qualcosa anche per quanto riguarda le produzioni e quindi i soldi i soldi spesi nel film è un paio di giorni che circola in giro la la voce che pare sia abbastanza confermata che sia successo e che poi non è andata avanti che sia apple che netflix che non mi ricordo quale altra azienda stiano provando ad acquistare i diritti per mandare l'ultimo film di james bond on demand perché pare che la mgm che praticamente ormai produce solo esclusivamente james bond pare che la mgm voglia uscire completamente dal mercato cinematografico per probabilmente finire nel mercato on demand non si sa sono anni che sono andati avanti sono sopravvissuti solo ed esclusivamente con i james bond la mgm praticamente non fa più niente la quelli con leone la mgm sono anni che ha dei grossi problemi economici fallisce si riprende si rifallisce solo james bond aveva da gli aveva dato una mano però pare che adesso abbiano deciso proprio basta ce ne vogliamo uscire e siano arrivate delle proposte da parte di grosse aziende che hanno i loro cataloghi on demand l'ultima notizia è che la proposta diciamo è decaduta subito immediatamente però la proposta è stata fatta e la dichiarazione da mgm ce ne vogliamo uscire dal mercato del cinema pure quindi allora c'è nicola dc 89 che dice una cosa che purtroppo devo sfatare che dice io sono dell'idea che si tornassino a fare film veramente buoni e non dei mostri di marketing stile marvel ritornerebbero anche a vendere biglietti ma la marvel li vende già i biglietti una voglia se li vende questo 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 problema non c'è no i biglietti vengono venduti il problema anzi è il contrario il problema sono i piccoli film che non vendono i biglietti e quindi è in realtà è purtroppo falso quello che dici nel senso ed è ci piace ci piace pensarla così ci piace pensare che i film ma non è vero la gente piace il mcdonald alla gente piace vedere film marvel bisogna è un braccio di ferro costante bisogna cercare di spingere un po più da un lato mentre loro spingono un po più dall'altro eccetera eccetera per questo io apprezzo sempre opere io apprezzo molto di più l'operato della dc in generale in campo di film di supereroi perché fa tante cose brutte però non perché sono buoni e nel senso perché la dc è del proprietà della warner brothers e sono dei mostri alla stessa maniera in cui lo sono la disney se sono delle grosse aziende che devono solo fare soldi quindi non ne frega niente però come strategia di marketing hanno scelto quella di dare più spazio agli autori rispetto a quella di dare più spazio a alle saghe e all'inizio questa cosa è andata un po arrancando adesso con batman di rives e joker di todd phillips eccetera eccetera sta un po iniziando a ringranare chissà però ha preso molto di più quello però zio nel senso non c'è no nel senso la gente piace andare al mcdonald e piace vedere il marvel ma sì ma non c'è cioè io sono uno dei primi che film marvel non li vede o almeno non vado al cinema dei film marvel poi capita che ci vado perché in game figurati l'ho visto infinity world l'ho visto magari non mi sono andato a vedere black panther perché non me poteva fregare di meno però quelli grossi sono andati a vederli senza apprezzarli più di tanto però ti ricordi mauro mi pare che in game addirittura abbiamo visto insieme infinity war abbiamo visto insieme adesso non mi ricordo quale abbiamo visto insieme forse infinity war forse infinity war ricordo in game l'ho visto da solo con fiorenza sì c'è ci mancherebbe altro sono comunque film fatti bene che vanno visti vabbè non rientriamo nel discorso ne sono entrate ne riesco subito non voglio entrare immediatamente in questo discorso marvel film belli brutti non piacciono però c'hanno il loro pubblico incassano un botto quindi va bene così comunque qualcuno dice la marvel vende biglietti sempre nicola dice nel 60 nel 69 il film record incassi il mondo fu 2001 di uno spazio vabbè ma qualche tempo fa è stato joker di todd phillips nel senso all'epoca andava mega di moda la fantascienza e quindi ci si era buttato anche kubrick con una cosa e quindi incassò perché era un'opera d'autore fatta nel genere che invece tirava di più la gente al cinema ovvero la fantascienza in quel periodo in questo periodo c'è stato phillips col suo joker succede sempre c'è un'eccezione ma per il resto confermano la regola perché e lo ripeto da quella volta in cui adriano disse quella roba io non sono d'accordo con lui per me non è vero che i vecchi blockbuster sono più belli dei nuovi blockbuster ritorno al futuro finché ci è rimasto nelle menti però è un film molto leggero nel senso non è una commedia fantascientifica non è un film impegnato e nel senso non è proprio quel film lo guardi e fai wow in presi lo fai lo fai però un altro discorso sai cos'è mauro io sono sempre stato di questa idea ogni volta che se ne parla lo ridico ogni ogni film e ogni genere è figlio un po del suo tempo cioè adesso un film come ritorno al futuro non farebbe assolutamente lo stesso tipo di scalpore che fece quando ci ritorna al futuro nessuno ci si affezionerebbe allo stesso modo perché i tempi sono diversi la tecnologia è diversa e quindi ma non la tecnologia è diversa per cui per cui per quindi stavo dicendo qui il film potrebbe essere fatto meglio eccetera sono proprio i temi che ci interessano che sono diversi cioè le cose che muovono le nostre giornate che sono completamente diverse quindi un film come ritorno al futuro ne l'accennavamo pure ieri alla fine del film del watch party un film come i gunis per quanto a mio giudizio a giudizio un sacco di altra gente della mia età sono dei capolavori assoluti se li fai vedere a un ragazzo di 15 16 anni adesso magari li apprezza perché comunque sono dei film che scorrono molto bene eccetera però non potranno mai avere lo stesso impatto sul pubblico che hanno avuto all'epoca è normale ti dico una cosa giovanni poi c'è uno che dice ritorno al futuro per me è robaccia vabbè ma come ho detto ieri c'è un sacco di gente che diceva non ne capisce un cazzo ma quello non è un problema cioè succede io di motori non capisco io volevo fare un esempio io credo che tra dieci anni 15 anni ricorderemo john wick come ricordiamo die hard ok può essere realmente perché di fatto ha creato un nuovo personaggio ha creato una nuova maniera di fare cinema d'azione quello che fece die hard all'epoca e e io ricordo che quando john wick uscì ne parlavano tutti ma non lo vedevano tutti io lo vedi perché sono un grande appassionato del genere mi fomentai a stecca e john wick adesso poi è entrato nel mainstream ed è diventato talmente famoso che è diventato una skin per per fortnite che hanno rilanciato da zero la carriera di chiano rives essenzialmente perché chiano rives era completamente scomparso prima ma john wick con john wick è rinato sono rinati tutti quanti i progetti a cui è legato chiano rives perché matrix 4 si è fatto semplicemente per chiano rives era diventato di modo famoso cioè l'unico motivo per cui hanno fatto matrix 4 essenzialmente e quindi il discorso è che io non penso che john wick sia un capolavoro che è un ottimo fin d'azione è un ottimo fin di genere ma tra dieci anni 15 anni quando lo vedremo con gli occhi della nostalgia e avremo cambiato completamente modo di fare film d'azione avremo cambiato completamente modo di interpretare quello che è un quel tipo di action diremo guarda quanto era bello john wick c'è chi scrive e b illustration dice che paura o di matrix 4 guarda id qualche anno fa ti avrei detto che anch'io avevo paura di matrix 4 però non c'è motivo di aver paura di matrix 4 perché se pensate semplicemente di andare a vedere un capolavoro incredibile o comunque magari fin sarà pure molto bello ma un film che lasci lo stessi che abbia lo stesso impatto che ha avuto il primo matrix è inutile perché non può essere così non sarà così avrà sicuramente delle cose pazzesche delle cose incredibili giocherà molto sull'effetto nostalgia pure quello però non 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 avrà lo stesso impatto che ha avuto il primo matrix perché lì è stata oltre che una questione di che cazzo sto vedendo perché era la prima volta che si vedevano determinate cose cioè a livello visivo matrix ha letteralmente fatto impazzire perché quelle scende le scene d'azione in quel modo non le avevamo mai viste delle scene d'azione pensate per quel tipo di tipo di creazione visiva non erano mai state concepite quindi era tutto totalmente nuovo e la cosa figa era che la storia andava perfettamente di pari passo con quella che era l'evoluzione visiva adesso tranne che si stanno inventando non so che perché tutto è possibile ma i miseri dubbi sicuramente sarà un buon film sicuramente sarà un buon film ma non pensate di andare a vedere un film che vi sedete con lo stesso avrete lo stesso impatto che vi ha dato il primo matrix perché è impossibile cioè è inutile pensarla a meno questo il mio il mio modo di vedere le cose non mi andrò a sedere al cinema con la con l'idea che adesso esco da qui e la stessa le stesse emozioni che ho provato nel primo matrix le voglio riprovare perché sarà impossibile saranno diversi non riproverò mai le stesse emozioni che che ho nel senso che ho provato con con tanti cioè con giumanji non le riproverò mai perché giumanji non è un film ripeto sempre giumanji non è un film così bello però però l'ho visto nel momento in cui avevo bisogno di vederlo quindi allora aspettate un attimo avevo letto una domanda prima era una domanda interessante che ha fatto qualcuno riguardo alle mode del cinema che cosa secondo noi le influenzassero allora allora nel senso per me come tutto il resto nel senso escono delle piccole cose di nicchia fino a che sono sempre avanti perché ovviamente chi fa cose di nicchia sperimenta per una visione nuova piuttosto che per una visione consolidata e a un certo punto una di queste cose di nicchia esce fuori in una maniera devastante ed entra nel mercato mainstream tutti quanti se ne accorgono e il mercato mestri mi inizia poi ad imitare quel mercato di nicchia e poi si finisce a diventare il nuovo mainstream e quindi il mercato di nicchia di nuovo tira fuori una cosa e ricomincia per esempio potrei sbagliare però io il primo grosso grosso esempio di cinema anni 80 film fotografia al neon richiamo a quell'estetica che ricordo rimane drive di refna drive di refna è stato uno dei primi che io ricordi perché non è che io sono voi conoscano tutto il cinema sicuramente c'è la roba prima di refna però refna è stato il primo che con drive che comunque costa 16 milioni di dollari quindi nel senso era un film sconosciuto di un regista che stava facendo per la prima volta un non è vero aveva già fatto no aveva già fatto altri film aveva fatto quello conto mardi già aveva già fatto altri film però drive è quello che diciamo l'ha tirato fuori dalla nicchia non ricordo male drive vince canne diventa un fenomeno mondiale quindi da lì tutti quanti dicono ammazza tutti neon tutta roba anni 80 e da lì in poi diventa un circolo che si aveva d'alimentare adesso siamo rotti il cazzo dei neon anni 80 uscirà qualcosa sia un po' quando è uscito cosa come cavolo si chiama twilight giusto perché per rimanere un pochino più vicino fare parlare di cinema un po' più conosciuto un po' più pop e poi uscirono tutta una serie dei teen drama d'amore a sfondo un po' non fantascientifico sovrannaturale non è uscito pure quel film dove c'è il ragazzo che diventa uno zombie e lei che si innamora non so però c'è il discorso è sempre quello ragazzi il cinema è molto bello quando tutti pensiamo che il cinema è solo ed esclusivamente una forma di espressione e basta e anche e principalmente una forma di espressione ma è anche un'industria è un'industria deve fare i soldi quindi se esce una roba che fa una sbranga dei soldi perché twilight fece veramente tantissimi soldi a quel punto tutti gli altri si mettono si mettono a rincorrere la moda del momento e nel cinema la moda del momento non dura un paio di mesi ho bisogno scusami nicola sembra me la sto prendendo con te però io sono un grande fan del del pensiero critico e oggettivo per quanto è bello pensare che il tempi i bei tempi andati sono andati e quindi non sono cambiati i gusti è cambiato il mercato dice nicola film maggiori incassi del 69 di siano uno spazio il padrino esorcista lo squalo star wars rock indiana jones e t ray man bla 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 oggi danni avengers 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 ok però non è vero perché se vai a vederti nel 70 nel 72 il padrino ok poi 76 e rocky che comunque è un filmetto che all'epoca ok poi abbiamo nel 77 star wars nel 78 grise e poi c'hai nell 80 star wars poi c'hai indiana jones poi di nuovo e ti poi star wars scusami poi di nuovo star wars poi di nuovo indiana jones poi ritorno al futuro cioè se stesso tempo stesso tipo di film è sempre lo stesso tipo di film ragazzi nel senso per anni e poi di nuovo indiana jones poi c'è costa un certo punto che il film di maggiori incasso dell'anni 90 il discorso è solo senso discorso è diverso da alcuni punti di vista c'è io sono un grandissimo per anni sono stati al primo posto di harry potter quando li hanno fatti c'è nel senso esiste sempre una moda e e comunque in realtà è risuccesso perché c'è gli ultimi anni avengers 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 più o meno nel senso che avengers nel 2012 quando ci sono poi c'è frozen poi c'è transformers poi c'è star wars poi c'è civil war poi c'è di nuovo star wars poi c'è avengers quindi nel senso sì però anche allora io come come ben sai sono un grandissimo fan e anch'io più o meno la penso in quel c'è la penserei in quel modo però poi a livello oggettivo mi rendo conto che la questione diversa i tempi sono diversi ragazzi tempi cambiano le cose cambiano le necessità cambiano esatto lo dicevo uguali lo dicevo ieri sera per esempio ai suoi tempi zemeckis poco prima di ritorno al futuro aveva fatto ovviamente delle altre cose anche durante ritorno al futuro la gente diceva e comunque zemeckis faceva film che aveva che avevano senso solo per l'utilizzo degli effetti speciali quando il ritorno al futuro ne parlavamo ieri sera gli unici effetti speciali su quattro fulmini e basta poi non ci sono effetti speciali all'interno del film quando poi per esempio forrest gump che è un film per molti molto più diciamo autoriale alcuni dicono comunque molto più pregno di significato è un film realizzato solo ed esclusivamente grazie a una massiccia cgi quindi non è quello cioè il purtroppo ritorno a quello che stavo dicendo prima il il tempo cambia cambiano i gusti delle persone cambiano le cose che abbiamo davanti nella vita di ogni giorno e quindi di conseguenza abbiamo bisogno di cose diverse lo vediamo nel cinema questo questo cambiamento è tra virgolette più lento perché comunque è un'industria molto grande e per smuovere un'industria molto grande ci vuole molto tempo qua orange maddie dice ragazzi è come l'editoria assolutamente lo vediamo anche nell'editoria ci sono un sacco di libri come scrive sempre orange maddie di youtuber e influencer che adesso si vendono tantissimo qualche anno fa un libro del genere sarebbe stato messo in un angolo sempre se c'è qualcuno lo stampava lo mettevano in un angolino da una parte perché non se lo filava nessuno adesso sono fra i best seller cioè cambiano le cose cambia il pubblico cambia la soglia d'attenzione che abbiamo cambiano i nostri interessi cambiano talmente tante cose con una velocità talmente diversa fra cinema editoria e musica raga che vedevo dire a fuori the world of him floyd che dagli anni 80 che lo ascoltiamo ancora dai cioè basta basta dai evitiamo cioè sono discorsi che hanno senso a un certo punto c'è una cosa che ci teniamo tanto a raccontare eccola aspettate che la trovo in tutto ciò ancora abbiamo detto un cazzo di spider-man si scusateci ragazzi è passata un'ora abbiamo visto che che vi interessava questo discorso si sono discorsi la verità è questa ragazzi adesso vi dico una grande verità noi abbiamo un come cazzo hanno fatto ogni due settimane ok quindi nel senso ovviamente il lunedì subito dopo del come cazzo hanno fatto è più pieno di roba di cui parlare perché c'è la roba di cui parlare ora io ce l'ho ancora un sacco di roba su spider-man o ancora un sacco di roba su rocky me ne è avanzata tantissima ho un sacco di roba su una po di roba su small soldiers che non abbiamo più 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 fatto e eccetera 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 però il discorso è che diciamo che alternativamente una live è un po più più precisa sui fatti è una live un po' più rilassata in cui parliamo parliamo tranquillamente comunque in realtà una roba mega mega fica di spider-man che ho scoperto è una roba che praticamente si chiamano burger bomb ok io che cazzo è pazzesca burger bomb burger bomb cioè allora praticamente mai sentire una scena in cui lizard viene la mesi in spider-man 1 risardo emerge da dalla metro se non ricordo male e arriva un team di swat che inizia a sparargli si distruggono tutto lui si nasconde scappa via ora come si fa quel livello di distruzione essenzialmente come come si gestisce a io purtroppo lo stavo cercando se riesco a trovarlo al volo allora aspettate che l'avevo quasi trovato era proprio volevo farvi proprio vedere cosa sono le burger bomb perché mi fanno mega ridere se io cerco spider-man burger bomb lo trovo no però mi sa che l'ho appena trovato io forse si vedo vedo il gesto c'è il tizio degli effetti visivi che sta facendo il gesto di spiegare quindi però ho trovato ho trovato una ricetta per fare il bacon burger bomb quindi ok i burger bomb adesso vediamo nel momento in cui vedi li sappiamo facendo il gesto di burger bomb ecco questa questo questo effetto di tutto eccoli qui le vedete qui sopra si queste robe qui questi sono dei contenitori di hamburger eccoli qua vedete si chiamano burger bomb perché sono contenitori di hamburger essenzialmente e vengono riempiti di detriti e di e di pezzi di muro d'intonaco tutte robe piccoline essenzialmente ecco vedete sono tutti quanti collegati con dei cavi che che sono collegati a un detonatore ok e quindi quello che succede è che quando poi deve succedere l'enorme sparatoria quello che succede eccoli qui vedete che scoppiano sparano e le burger bombe esplodono dando questo effetto finale che poi vedete qui vedete eccolo qui ora invece questo cretino qui che cosa sta facendo sparando alle burger bomb no assolutamente perché le burger bomb sono no questo è quello che spara al muro esatto questo cretino ha una pistola da paintball con dei dei piccoli proiettili delle piccole palline di zinco e quello che fanno è che queste palline colpiscono il muro e canone le scintille e quindi essenzialmente quello che succede in una scena del genere in cui ecco guardate guardate questo vedete queste questi queste scintille queste esplosioni sul muro sono provocate da questo tizio qui che è il responsabile degli effetti speciali che quindi prima fa saltare in aria queste burger bomb con un detonatore a distanza con questi fili che arrivano ad una ad una sistema di controllo fuori campo e poi spara scusami un attimo continua dopo c'è un ride di saidonia chiara non non so se era chiara o saidonia che stavano in live che hanno insieme credo credo non lo so se erano insieme c'era l'uno o l'altro che ci hanno appena fatto un ride con 1140 utenti grazie mille ragazzi scusa se ti ho interrotto ragazzi benvenuti me ne sono accorto perché una certa ho visto una sorta di gionno che non so che vuol dire comunque benvenuti ragazzi questo è come live hanno fatto dove ci siamo io e mauro zingarelli ma principalmente mauro zingarelli che ho pesantemente interrotto che stiamo spiegando stiamo vedendo insieme delle sequenze di backstage di effetti speciali nel mondo del cinema in questo caso ci stava parlando di amazing spider man 1 e c'è mauro che ci sta facendo vedere quelle che vengono chiamate burger bomb cioè mauro al volo dai grazie queste qui vedete questi piccoli pacchetti di hamburger appesi a soffitto con dei fili che le collegano ad un detonatore che poi è fuori campo seguendo il mouse si vede un po che arrivano fin qui e contengono detriti contengono detriti pezzi di finto muro pezzi di tipo polvere eccetera eccetera e quindi possono poi essere detonati quando eccoli qui che vengono fatti esplodere quando il gli svuot arrivano e sparano e invece con l'altro che stavo di cui stavo parlando prima vediamo se riusciamo ad arrivarci eccole qui queste sono le burger bomb a siamo già andati troppo avanti eccolo qui questo fallito qui invece è il responsabile effetti speciali che una pistola da paintball sta sta sparando dei proiettili di zinco contro il muro che provocano le scintille che poi vedete in campo questo cretino invece mi scuseranno tutti loro per gli sto amorevolmente prendendo in giro ma poi realtà a me piace tantissimo questo lavoro sono quelli che permettono ai cretini che fanno i registi come me di poter fare il proprio lavoro questo povero uomo a terra con una serie di di marker addosso è quello che sta interpretando il lizard ora in realtà ad essere totalmente onesti quel pover uomo lì non serve a niente che non nel senso non ha una tuta di mock up addosso non ha niente però se ce l'avranno messo un motivo ci sarà per traccarlo per poi poterlo rimuovere ma non serve niente serve solo a dare un'indicazione al cameraman di dove sarà la di dove sarà il protagonista per poi per inquadrare si poi della sua performance non verrà niente a nessuno perché nel senso è solo guarda lui come soddisfatto col suo con la sua pistola che spara zinco allora torniamo a me ecco pazzesco allora debiti lounge dice domanda che sorge spontanea questa mi fa ridere questo la leggo ma c'è anche una detta alla consonazione degli hamburger che per poi avere le scatoline che giustamente dice c'è servo quante scatoline dobbiamo fare esplodere sul set oggi quando ce ne servono 40 quindi vai al primo mcdonald vai a comprate 40 hamburger per scatoline ovviamente no però è divertente pensare che potesse essere così anche perché quando ero piccolino io ti racconto questa molto veloce quindi nel lontano 45 negli anni 60 esatto quando era piccolino io mio padre organizzava dei tornei di calcetto per fare gli abbinamenti delle squadre facevano le diciamo le estrazioni e li facevano con i bussolotti dell'ovetto kinder quindi la cosa più veloce per mio padre adesso è l'organizzazione non sapendo non sapevo dove andare a comprare questi bussolotti comprarono un centinaio di ovetti kinder che io mi ritrovai a casa gli ovetti kinder con le sorprese e quindi magari qua hanno fatto lo stesso modo hanno dato da mangiare hamburger a tutta la truppa per prendere scatoline e poi farle esplodere frattazio da vellete dice ma quelli di mcdonald sono già fatte con quegli ingredienti bravo ah sicuramente infatti forse non lo levano neanche il panino lo lasciano dentro comunque che bella infanzia mi dico eh mi ricordo no veramente ragazzi a parte gli scherzi mi ricordo questa scena di mio padre che torna a casa a pranzo con una busta una busta enorme piena 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 di ovetti kinder e per me mia sorella ovviamente oddio che cazzo è successo lui se l'era venduta bene all'epoca ci disse è perché vi ho voluto fare questo regalo poi invece scoprimo qual era il il motivo not stonks allora senti io ho un'altra cosa piccolina da dire ciò su spiderman poi voglio passare oltre il coordinator il lo stand coordinator del film è vic armstrong e tu dici ma chi cazzo è armstrong quello no non quello non quello vic armstrong vittorio ma chi è vic armstrong è stata la contro figura di indiana jones nel film originale quindi la contro figura di indiana jones poi è diventato uno stand coordinator adesso fa il coordinator nei film di spiderman quindi insomma allo slow motion in spider menu di raimi quale rissa andrea con 94 potei potrei lo slow motion in spiderman 1 direi allora un sacco di gente ci chiede in continuazione la scena del treno ragazzi io non ne ho idea che non l'hanno spiegato da nessuna parte però se mi datemi un secondo giovanni intrattieri la nostra la nostra sì no alla cosa è la scena del treno qualcosa non so se ti ricordi la scena del treno quella la allo slow motion nella rissa fra lui il bullo quando lui scopre per la prima volta di avere i super poteri capisce quindi sente c'è la musca eccetera eccetera quella roba lì che sostanzialmente mauro è tutta cgi cioè no no idea sono quelle scene che negli nei contenuti speciali non ti spiegano perché tanto è tutta cgi quindi che te dovevo spiegare quelle cose sì sì se riesco a a trovare perché mi ricordo che perché spiderman 2 non era nelle cose che avremmo dovuto fare spiderman 2 no però c'era un'altra scena che ci chiedono molto spesso e non è non solo questa sera ma è già successo anche l'altra sera è stato quello quella del dove lui ferma il treno un attimo cercando per vedere trovare però in realtà mi ricordo che quella del treno è molto digitale nel senso sia tutto digitale pure lì però roba realistica ragazzi la scena quella della mauro sta cercando vedere il treno la scena quella dello slow motion è sempre allora la maggior parte delle volte queste scene sono create da un mix di cose le macchine che spieghiamo vi posso far vedere una cosa bellissima intanto mentre io intanto faccio vi metto qui hai trovato devo farvi vedere delle cose bellissime a questo è il 2 la scena quella dentro il barra lì questa è la bellissima ragnatela tra l'altro questa roba è faticosissima per lui poverello nel senso vedete c'è un c'è un cavo che lo tiene da sopra la persona più muscolata del mondo però in realtà a me quello che faceva ridere era l'avevo trovato prima sono sempre appesi come dei dei salami e questa cosa mi fa mega ridere l'avevo visto prima mi faceva mega ridere c'erano tutti i tizi che tenevano le braccia del tortor octopus niente non lo sto ritrovando che peccato vabbè quindi stavo dicendo la scena quella lì e che stavate la vecchietta che viene effettivamente l'anno sia me sì sì che ci ha tenuto a fare me non ricordo questo ci ha tenuto a fare lei con i cavi sì 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 è carino eccola qui guarda la pesa e tutti quanti dicono a sembraimi Sam lei ha 70 anni ricordatelo ti prego allora c'è un problema fede gandolfo che dice ciao cani mi seguo sempre ma prima donazione grazie 3 euro sapete che crisping lover ha recentemente motivato la sua assenza nel secondo fine ritorno al futuro a quanto pare non è vero che ha chiesto uno sproposito allora questa molto probabilmente è puzza tanto de cagata tirata fuori da crisping lover perché effettivamente lui dopo quella roba lì non fece più niente perché l'altra sera c'era qualcuno che diceva eh lui addirittura ha fatto il cattivo di charlie's angels ora se vi andate a vedere il remake di charlie's angels non l'ultimo quello che hanno appena fatto dove c'è anche l'attrice che fece bella suon che non mi ricordo come cavolo si chiama ma quello con drew barrymore cameron diaz e lucy liu c'è anche crisping lover crisping lover fa il cattivo tra virgolette anzi lo scagnozzo del cattivo e non dice una battuta dice sì una sta zitto tutto il tempo e giocano tantissimo con quel personaggio sulla sua fisicità che lui abbia ovviamente non lo sa non sapremo mai la verità che lui abbia rilasciato di recente un'intervista dicendo che non è vero è avevo sentito questa cosa ma diceva che praticamente si lamentava del fatto che secondo lui il finale del primo film era offensivo perché semplicemente lasciava intendere che era finito bene il primo film perché lui adesso era diventato ricco e bla 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 e quindi c'aveva i soldi poteva aveva comprato la macchina eccetera eccetera a me mi puzza decazzata da qua agli stati uniti dove crisping lover disse questa cosa però ovviamente non sapremo mai la verità perché quello dichiarato da bob gail è stata totalmente un'altra cosa è quello che dice lui dopo anni e anni che la gente gli dice ma ti rendi conto che enorme cazzata hai fatto adesso se ne esce con quest'altra cosa quindi a proposito di cose non sapremo mai io purtroppo sono un non sono un grande fan dei making of della marvel perché proprio onde evitare questa questa serie di problemi tendono ad essere tutti incredibilmente gentili nei making of della marvel e sono noiosissimi c'è i making of della marvel sono solo clip su clip di tom holland che sorride dice oddio quanto è gentile jay killen all e jay killen all che dice oddio quanto è stato bello lavorare con tom holland e samuel jackson che dice lavorare con il regista questo prima è stato pazzesco il regista diciamo che palle non dicono niente di quando fatti sti cazzo di film io ma poi siamo andati a venezia ma sfornato tutto abbiamo ricostruito il set di venezia e basta poi questo però quanto è simpatico dom holland ma che cazzo me ne frega simpatico dom holland sicuramente c'è sempre stato questo questa come dire questa celebrazione del dell'attore no del delle dell'attore visto come molto vicino a noi basti pensare a non lo so insomma non forse no forse l'altra ultimamente è aumentata questa cosa con personaggi come jennifer lawrence che erano tanto 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 vicini a noi tanto 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 più simili a noi e quindi ci piacevano un sacco e altrimenti si insiste un botto su questa cosa e per carità se io non ho niente il contrario però quando invece mi levano il come dire mi tolgono poi spazio e making of me mi fanno incazzare sai cosa è mauro però è anche vero che molte volte certe cose sono c'è allora diverso tempo fa i contenuti speciali dei dvd erano quella cosa in più c'è diverso tempo fa intendo quando uscirono i dvd erano quella cosa in più che mettevi dentro semplicemente perché c'era la possibilità di metterlo e magari per farlo vendere adesso quando si parla ovviamente di grossi film i contenuti speciali fanno parte del budget comunque c'è il backstage fa parte proprio del marketing fa parte del budget della realizzazione del film backstage in cui tutti quanti facciamo finta che tom holland davvero possa essere un cretino deficiente perché fa parte di questo di che non deve diffondere le cose ci crediamo tutti nonostante sappiamo benissimo che non è assolutamente possibile che tom holland davvero si dimentichi le cose cioè è anche quella molto probabilmente una trovata di marketing perché ci sta che il quello nuovo il ragazzino un po così magari che non è ancora nel mercato del super cinema si sbaglia e spoiler a prima di tutti quello che il finale o si dimentica delle cose secondo me fa comunque parte del marketing perché rende il ragazzo sicuramente più vicino più simpatico per i ragazzi della sua età che sono i primi che vanno a vedere il film cioè fa tutto parte scusatemi c'è visonte che dice ma sono ancora l'unico che compra ancora dvd non il blu ray scusami ma sì cosa hai agli occhi zio ma ne come fai a vedere un dvd 720 per 576 sì io ormai non le riesco a vedere le pupille ma sei matto zio col con la codifica pall 25 non compro un dvd ormai solo blu ray c'è ma ormai solo blu ray da quando in realtà ho preso la prima la prima versione la playstation 4 da allora è solo blu ray addirittura adesso se c'è una cosa in dvd piuttosto non la prendo piuttosto è prenderla l'unico l'ultima cosa che ho preso in dvd era la breaking bad la serie di breaking bad perché ogni volta che usciva diciamo il cofanetto della serie usciva solo in dvd e non in blu ray poi quando è uscita tutta hanno fatte il blu ray ma siccome la prendevo mano a mano allora c'ho i dvd per questo mi sto segnando dato che l'ho appena finita di vedere mi sto segnando che devo fare un come cazzo hanno fatto su euforia allora intanto grazie peter 01 001 per i due euro se fate un regalino ai cani malati voglio partecipate pure io un euro a testo un bacio grazie mille peter ma che malati stanno benissimo ma stanno bene ma non vi fate fregare siamo siamo stati siamo i veri problemi e altra siamo stati finora ovviamente finora e questo non vuol dire che smetteremo di essere attenti assolutamente anzi visto che due di noi ci sono cascati staremo ancora più attenti studio già giusto per farvi fare un po i cazzi nostri abbiamo appena pagato un servizio che verrà a fare la disinfestazione dello studio una volta al mese e prima non ce l'avevamo questa cosa avevamo semplicemente le pulizie adesso una volta al mese faranno la disinfestazione dello studio siamo stati fortunati perché alle due persone che sono state l'ha dichiarato l'altro giorno matteo bruno e marco cioni ci hanno sono positivi al covid a tutti e due è venuto comunque hanno avuto il covid e i loro cioè sono positivi e i loro sintomi sono veramente molto blandi matteo addirittura è totalmente sintomatico marco cioni ci ha avuto la sanificazione esatto marco cioni ci ha avuto la febbre tipo per mezza giornata e poi basta quindi siamo stati tremendamente fortunati in questa cosa non è detto che sia così per tutti assolutamente infatti nonostante questo continuiamo a stare iperattenti se non addirittura l'ho detto e ve lo ripeto se non addirittura molto di più di prima perché ragazzi bisogna stare attenti oggi sono uscito un'oretta giusto per andare a piedi a comprare i liquidi della sigaretta elettronica fra l'altro mi devo fare perché quello è finito la sanificazione non la disinfestazione va bene sono sono uscito per andare a comprare i liquidi della sigaretta elettronica e devo dire che oggi con mio estremo diciamo piacere la gente in giro a roma stavano tutti con la mascherina senza mascherina ne avrò visti veramente pochi e io sto in una zona molto centrale di roma quindi era piena piena di persone però ne avrò contati quattro cinque su chissà quanti ne ho visti che erano tutti con la mascherina e questa è una cosa che mi ha fatto piacere perché nelle settimane scorse in giro per roma era uno sì uno no invece adesso piano piano si sta cominciando la gente sta cominciando a capire che sta cosa deve fare comunque qualcuno prima chiedeva una cosa per cambiare l'argomento e tornare su una cosa simpatica e poi andiamo a raccontare le cose di small soldiers praticamente qualcuno esatto qualcuno chiedeva l'aneddoto sulla palissiano che ho detto l'altro giorno c'è un aneddoto sulla palissiana in realtà non è un aneddoto semplicemente andai a leggere la pagina wikipedia all'epoca però vi risparmio qualche clic che ve la racconto io essenzialmente la palissiano il termine che indica una cosa che ovviamente la versione elegante di capitano ovvio come concetto c'è nelson in che senso c'è nelson dov'è nelson ciao nelson se ci sei ciao io purtroppo oggi non ho mi dispiace vado a mettere la maglietta degli space valley ce l'ho intanto ringrazio il santone dello svapo per non avermi mandato l'ennesima boccia ok è uscito scritto beh sì a scusa mauro grazie hai ragione mi sono dimenticato di mettere la maglietta la metto domani sul mio canale spero vada bene lo stesso c'è mauro che dice ciao ragazzi volevo chiedervi cosa ne pensate di gai rice del suo stile registrico il mio regista preferito ma vedo che molto che non è molto considerato a livello mainstream e ha donato un euro io prima o poi ne vorrei parlare di gai rice perché a me piace troppo e sono assolutamente d'accordo che non è proprio ben considerato non solo il suo ultimo film king arthur è stato preso a pesci in faccia ed è un bellissimo film ha fatto anche terzo ultimo vero aladin e ha fatto anche aladin non ha merda zio aladin è inguardabile fa veramente schifo io non l'ho visto è disney però invece gentleman è molto bello io sono un grandissimo fan di che ricci lo adoro alla fine anch'io l'ho visto mille volte snatch probabilmente il secondo blu ray che ho comprato nella mia vita mi piace tantissimo lock and stock ero impazzito per rock and roll e mi è piaciuto tantissimo the gentleman quindi non lo so the gentleman nell'ultimo vero molto molto bello devo vederlo non lo vide già io sono morto delle risate per via dei coni di snatch di l'interpretazione di brad pitt pazzesca e poi quando l'ho potuto apprezzare in lingua originale che non si capisce ancora di meno un cazzo con con brad pitt che dice dugs invece di dogs mi fa si the snatch è bellissimo mi fa molto molto rileva comunque l'aneddotino veloce sulla palestiano e che viene dal nome di questo di questo di questo maresciallo la palis no francese e questa canzoncina che veniva palis come scritto la palis la palis e pali no no proprio come vabbè ok vabbè comunque dai te lo dico in italiano quindi il discorso è che c'era questa canzoncina che cantavano i suoi soldati che diceva farò un pessimo francese il suo era se non fosse morto sarebbe ancora in vita e quindi insomma da allora la termine la palistiano perché è un'ovvietà se non fosse morto sarebbe ancora in vita però qual è il discorso e che pare c'è una possibilità che in realtà la canzone dicesse se non fosse morto farebbe ancora invidia che è molto simile in francese perché envy envy e sarebbe sia invidia che sia in vita basta solo lo spazio e serois e ferois mancano cambiano solamente di una di una di una consonante essenziale quindi può essere questa in realtà questa canzoncina dicesse se non fosse morto farebbe ancora invidia e invece qualcuno ha capito al contrario ed è diventato un modo per prendere per il culo questi tizi che stavano dicendo un'ovvietà si fra l'altro in francia succede succede molto spesso che si sbagliano per una pronuncia detta poco bene si sbagliano sulle parole infatti su questo devo spezzare una lancia a favore dei francesi si sa che loro sono molto stronzi ma molte volte che non è che fanno finta di non capire che veramente ci sono delle parole che se non pronunciate veramente bene o significano una cosa o un'altra per esempio c'è il famoso discorso un bicchiere d'acqua che si dice anverdeu 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 che se u viene detto male può sembrare semplicemente un bicchiere d'acqua e quindi loro ti chiedono di cosa ma che stai eh sì però è così però è così quante volte io ho dovuto dire a questo panettiere in francia de verdegli due panini e lui non capiva ho capito Giovanni ma se io ti sto facendo così con le dita quanti cazzo ne voglio secondo te di panini quello perché è stronzo e lì ritorniamo al discorso francesi e parigini che so pure stronzi ma quello è perché è stronzo però a volte se tu chiedi un bicchiere di se tu chiedi un bicchiere d'acqua se non lo dici ma dici lo so che non si nota la differenza ma c'è la differenza per loro loro invece di capire un bicchiere d'acqua capiscono un bicchiere di e poi c'è la il buco cosmico poi dicendogli non andando avanti dovrebbero accendere il cervello e capire che l'hai detto semplicemente male e quindi vuoi dell'acqua semplicemente quello però poi so stronzi e quindi va bene allora io vi racconto una piccola cosa su small soddies che ho già raccontato sul mio canale tra l'altro di un frittore tra l'altro leggevo una domanda prima di cui sicuramente adesso non c'è modo di parlarne però è una cosa di cui vogliamo parlare io e fiorenza domani su sul podcast ovvero di quanto c'è di vero e quanto c'è di finto nelle nelle gag nelle gag di borat del film uscito adesso perché l'abbiamo visto e ci siamo incuriositi su effettivamente come hanno fatto a girare certe cose quindi poi magari domani ne parliamo c'è uno che ha dato delle merdi ai francesi e io siccome sono stronzo io mi dissocio io mi dissocio esatto e siccome io non sono minimamente d'accordo con questo discorso lo banno io mi dissocio a caso comunque comunque stavo dicendo quindi se andate sul canale youtube di 000skids trovate la clip completa sulla roba di small soldiers però per farvi una breve introduzione succede che viene assunto il grande stan winston responsabile degli animatronics per fare questo stan winston ok stan winston ragazzi io non so nel senso ha fatto il t-rex di di coso di come cazzo si chiama the jurassic park ha fatto il terminator ha fatto la tuta di predator e ha creato ha creato ragazzi la tuta di iron man cioè non esisteva la tuta di iron man ma aspetta la tuta di iron man il primo quello di john favreux ah ok cioè ha creato la versione reale della tuta di iron man wow è di stan winston stan winston ragazzi stan winston un genio c'è nel senso bubavash dice che ha diretto ghost di michael jackson ghost è un videoclip del pezzo omonimo ovviamente vabbè insomma il primo capitato insomma diceva al tvm esattamente c'è ragazzi un genio nel senso di cui le persone mi fanno voglia di buttare la mia vita al pozzo essenzialmente e quindi di fatto dovevano essere è stato preso essendo stato preso stan winston è ovvio che smolto di essere fatto tutto quanto con i pupazzetti perché non abbiamo parlato in come cazzo hanno fatto io ce lo volevo mettere in come cazzo hanno fatto però purtroppo non c'era abbastanza materiale perché sono successe un sacco di cose brutte e la cosa più brutta di tutte queste è che in realtà il regista giudante lo stesso di gremlins quindi insomma il discorso era quello no facciamo una roba alla gremlins e giudante si ritrovò coinvolto a suo malgrado perché non è che giudante poi fosse tutto sto fan dei pupazzi cioè non è che gliene fricava niente giudante fai i film con i pupazzi giudante lo fai film e basta si è ritrovato a rifare gremlins essenzialmente dopo che già non può fare il secondo lui essenzialmente ok facciamo gremlins con i soldati ora vi condivido un attimo lo schermo perché questa la trovate su youtube c'è il video della stan winston school che è la sua scuola di pupazzi questa è in rehearsal il ripasso del combattimento tra non mi ricordo che si chiama il capo dei gorgonauti e il capo dei soldati come potete vedere c'è una infinita quantità di marinettisti vedete ognuno controlla un pezzo un arto diverso ed essenzialmente come doveva succedere che all'inizio vedete dovevano dare che prendere a calci questo si chiama the real radek dice si chiama arcer il capo dei gorgonauti è vero è vero non ricordo sono arcer il capo dei gorgonauti io lo sapevo a memoria questo film a memoria e niente insomma questo va a essere il combattimento tra di loro no coltello contro coltello potete vedere che al di là del fatto ci sono sei persone a a muoverli pazzo essenzialmente ognuna di loro governa un arto e ogni arto come vedete poi è comandato a sua volta con con un con un piccolo con una serie di cose elettroniche che gli fanno muovere le mani cioè il braccio è controllato dal movimento di questa stecchetta mentre le dita sono controllate da questi sistemi elettronici che sono comandati alla fonte il problema è che come potete vedere non sono proprio agilissimi non sono proprio fluidi diciamo i movimenti anche queste sono le prove per carità sono in studio le stavano ancora provando e stavano ancora cercando di fare e e volevano ancora capire come sarebbero uscite fuori infatti come vedete verso la fine sono un po più un po più fluidi però non sono proprio in il meglio del meglio che ci si può questa è una cosa che a me piace del cinema cioè il continuo sperimentare di cose il continuo cercare di trovare il modo migliore per fare qualcosa cioè non c'è mai non so se però di solito è così a meno in quello che ho visto io non c'è mai un sistema standard ognuno cerca di adattarsi di prendere quello che hanno fatto rielaborarlo per esigenze che hanno eccetera che non si trova la la tecnica poi che quella giusta che ti puoi portare avanti fino fino alla fino a quando non viene rimpiazzata però quale è stato il problema come potete vedere c'erano un botto di gente botto di persone e per la maniera in cui il film doveva essere girato essenzialmente non c'era modo di non inquadrarle cioè erano davvero troppe e soprattutto per scene complesse del genere io pazzi dovevo potevano essere potevano essere come dire dove per essere stati per i primi piani ma per le scene totali era proprio impossibile cioè nel senso si poteva fare si poteva fare come facevano loro però poi andavano rimossi tutti quanti in cgi e cominciava a essere complicato poi dipende sempre al budget è sempre quello il discorso al prescindere dal budget c'era comunque la ilm che lavorava questo film però di fatto quello che il ragionamento viene fatto è ragazzi ci costa molto di più in termini di impegno e di limitazioni sul set rimuovere i marionettisti in cgi di quanto ci costi fare i pupazzi da zero e quindi hanno fatto di ma allora io non so niente gli small soldiers però mi puzzava tanto di passo 1 mi sbaglio completamente o ci sto andando vicino passo 1 stop motion ah ok scusami no no in realtà ci sono un paio di cose stop motion nei totali ci sono un po di marionette negli stretti e però la maggior parte delle cose in totale sono sono fatti in cg sono fatti in cgi la ilm ci ha messo la propria forza essenzialmente e ha detto va bene andrea stai calmo stai spammando tutti i comandi così a caso grazie a parte i nostri comandi però stai calmo ogni tanto fra l'altro scusate fra prima abbiamo ringraziato giacomo bario ogni volta ci dimentichiamo di andrea siamo delle brutte persone grazie andrea grazie andrea perdonami di stare calmo mi fa solo molto ridere queste enorme quantità di comandi spammati in chat e comunque stavo dicendo mauro mauro scusami se ti interrompo ma c'ho la la domanda del secolo scusa la mia profonda ignoranza mauro chiede talos 7 ma come può avere dei costi la cgi alla fine si tratta di un programma io spero che tu stia 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 scherzando però per chi per chi effettivamente non capisse come questa cosa funziona perché poi al di là del 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 modo di di parlarne sono certo che ovviamente come dire il problema della cgi è che è talmente complessa che non non la capiamo ok non ci rendiamo conto di come funziona e quindi la riduciamo semplicemente a c'è un computer che fa delle cose si è stato è quello che dice sempre mario balucci che è il tizio che si occupa negli effetti speciali della maggior parte dei nostri prodotti che ovviamente giocando su questa cosa dice sempre ma io non faccio un cazzo fa tutto il computer pre un pulsante cioè qual è il problema che nel 2020 ormai praticamente l'80 per cento della nostra vita si può ridurre a c'è un computer che fa delle cose questo è un computer che fa delle cose in questo microfono c'è un chip che fa delle cose tutta la nostra vita è governata da computer che fanno delle cose essenzialmente e il problema è che noi non lo capiamo non capiamo come funziona la cgi perché è molto molto complessa e noi non siamo ancora arrivati mentalmente come funzionano certe cose e quindi ci limitiamo a dire ok poi quello è fatto a computer è fatto in cgi e siamo colpevoli anche noi che ovviamente a un certo punto riduciamo ma perché perché noi su come cazzo hanno fatto tendiamo a spiegare sempre di più la roba fatta in maniera artigianale rispetto a quella fatta in cgi non perché quella fatta in cgi è meno bella ma perché per capire quanto è complessa io dovrei passare un intero episodio di come cazzo hanno fatto solamente a spiegare le basi della computer grafica e dell'animazione computerizzata ma non solo e non solo non posso farlo sarebbe completamente inutile perché non c'è nessuna certezza che le persone della della del video successivo avremmo visto il video precedente quindi è tutto un anche quello ma non solo lema talos 7 dice sono davvero ignorantissimo perdonatemi ma figurati ovviamente non ti preoccupare guarda per sbagliarlo discorso per concludere il discorso scusa che non è un computer sono migliaia di computer che fanno delle cose complicatissime che vanno comunque programmate a mano non è una roba che il computer fa da solo nel senso la modellazione del personaggio è uguale a quella che si faceva prima c'è prima si facevano i modellini si facevano i mock up si scolpivano e poi si faceva il calco adesso semplicemente si mette in zbrush ci si mette sul computer lo si scolpisce davanti allo schermo perché più comodo ma è la stessa di come dire che ci vuole a scrivere un libro adesso non ci sono più le macchine da scrivere fa tutto il computer il computer semplicemente ti fornisce un nuovo mezzo per poter scrivere strumento e quindi il computer ti permette di scrivere al computer ma devi comunque scrivere alla stessa maniera devi comunque modellarlo il il mostro e quello è il discorso ci sono diversi programmatori qui in chat o modellatori 3d e dicono mi sento un po feso ma no ragazzi ovviamente la base molto semplice molto proprio terra terra è che se il computer riesce a fare qualcosa premendo pulsante è perché c'è una mente umana che dietro ha programmato in maniera folle tutta una serie di cose che poi permettono al deficiente di turno e mi ci metto io come prima come primo di premere un pulsante per fare una cosa ma questa cosa il computer non la sa fare da solo se non c'è il programmatore che ci impazzisce dietro e che spiega tra virgolette diciamo spiega al computer come fare le cose perché il computer di base è stupido non è una mente senziente è una mente calcolatrice e calcola quello che chi programma gli dice che cosa deve calcolare allora prima è stata fatta una domanda molto interessante qui dai ci tengo a rispondere la ritrova i mai la ritrovo la ritrovo porca di quella miseria l'ho persa vabbè era qualcuno che diceva ma i soldi eccola qui ma quello che costa diceva indice nazario for real ma quello che costa sono i programmatori e programmi quello che costa è sempre la stessa cosa è la stessa cosa che costa nei modellini la stessa cosa che costa quando fai pet painting e la stessa cosa che costa in ogni caso ovvero il tempo è quello che costa perché sicuramente le render farm costano nel senso che per dirti tutti quanti siamo dei frequenti utilizzatori di after effects o quantomeno lo conosciamo per chi non lo conosce after effects è un programma per fare effetti visivi ed è relativamente economico nel senso che costa 60 euro al mese e giovanni non ricordo premiera perché io non c'ho la dici premiero after premiera premiera scusami non premiera la la suitta dopo dipende dipende da ci sono 200 mila contratti a seconda del piano che si sceglie gli studenti posto può arrivare a costare da un minimo di 20 euro al massimo di torno ma addirittura c'è stata una volta che ha degli studenti è costato 20 euro un anno quindi va beh insomma ha dei costi variabili esistono invece però software ultra professionali tipo nuke che è un software utilizzato per effetti visivi solamente dalle grosse compagnie di effetti visivi che costa tipo una licenza da 4 mila euro a computer essenzialmente quindi sicuramente quello è un costo e le render farm sono un costo ovvero questi enormi posti che sono quasi tutti proprietà di amazon tra l'altro di ciao che sono sempre delle enormi stanze raffreddate in modo che non si riscaldino con computer su computer che fanno calcoli su calcoli che tu gli dici di fare udini dice costa 7 mila all'anno dice snappa che è esattamente quindi sicuramente software costano sicuramente i luoghi costano per la cosa che costa di più rimangono rimane il tempo delle persone infatti c'era qualcuno di sopra che diceva io sono un programmatore posso dire che una delle classi più famose dell'informatica no aspetta il computer spettano scena conosciamo molto veloce mi ha fatto molto si invito però c'era una persona prima che diceva insomma il concetto è che il tempo è quello sì ma infatti tutti vediamo quello che costa anche noi nel nostro lavoro veniamo pagati a tempo ecco il discorso nel senso per fare il una roba di cui si è parlato recentemente con cyberpunk per chi è anche il videogioco il videogioco esattamente si è parlato farò del male che hanno fatto a tema video di mauro io c'ho io c'ho un mio amico di delle superiori marco che ha fatto red dead redemption quindi un giorno dobbiamo farlo e ci facciamo spiegare come ha realizzato il motore di rendering della luce di red dead redemption capito e comunque insomma il discorso è che c'è stato una controversia riguardo a cyberpunk perché per chi non lo sapesse cyberpunk è questo videogioco molto famoso e di cd project red cd project red è un'azienda di videogiochi della polonia se non ricordo male ricordo che europea ricordo che europea ma non mi ricordo da quelle parti credo sia polacca ed essenzialmente qual è il punto quindi non ha le risorse che hanno le enormi aziende americane o giapponesi e si parlava del fatto che che ultimamente hanno chiesto ai propri programmatori di fare le ore piccole ce li hanno detto ragazzi ok dobbiamo finire il gioco c'è bisogno di finirlo e vi preghiamo quindi di lavorare con gli straordinari pagati con un sacco di bonus in più però vi chiediamo di raguola di lavorare c'era che non vi paghiamo vi paghiamo comunque però vi chiediamo di lavorare di più di quanto dovreste lavorare quindi più delle normali 8 ore al giorno lavorare 12 ore al giorno e di lavorare anche nei weekend perché altrimenti il crunching ecco come si chiama grazie ragazzi il crunch il la famosa tecnica del crunch in questa è una cosa che nel mondo del dei media è molto frequente perché mentre in tutti quanti gli altri ambiti si tende a a lavorare con con delle deadline un po diverse nel mondo dei media videogiochi film eccetera eccetera si tende a dire ok questa cosa è già stata annunciata deve già uscire questo giorno quindi era certa bisogna sbrigasse a farla e quindi quello che costa della cgi appunto e se un'azienda tipo la disney si dice ok infinity war deve finire entro questo giorno che cosa può succedere può succedere che o mi dai un tot di soldi e io te lo faccio nel corso di quattro anni oppure mi dai tutti i soldi che c'hai io assumo tutte le persone che trovo gli do abbastanza soldi che loro non ruote il culo se lavorano praticamente 20 ore al giorno e il film te lo finisco nel meno il primo tempo possibile allora e questo è il discorso essenzialmente questo che costa tanto della cgi william gabriele che è il ragazzo che conosco è stato sul mio canale che ha lavorato film tipo avengers fast and furious thor tutta questa roba qua questi film non hanno budget c'è nel senso non hanno un limite di budget se loro hanno bisogno di più soldi perché hanno bisogno di più persone arrivano più soldi di base cioè questo prende il discorso che dicevamo l'altra volta che abbiamo detto più volte come non è una sola azienda che si occupa degli effetti speciali di un film gigante ma come sono più di una poi ovviamente una cosa sui film tipo fast and furious che comunque è un mega blockbuster nonostante molta gente faccia schifo film della marvel eccetera eccetera sono tutti dei film che hanno più importante del budget che hanno a disposizione per la cgi perché comunque quei film sono per il 90 per cento cgi è la data d'uscita poi il covid fa quello che fa però normalmente debbi normali è la data d'uscita in quel caso lui dice sempre sono film senza budget se io improvvisamente mi rendo conto che per il lavoro questo proprio l'ha detto che per il lavoro ho bisogno di 10 persone in più e 10 persone in più vuol dire un aumento di budget consistente ovviamente si fa la richiesta e due minuti dopo arriva la conferma che possono arrivare queste 10 persone in più poi in film molto più piccoli ovviamente succede una succede tutta un'altra cosa il discorso è completamente diverso a questo mi collego un attimo una domanda che ha fatto artemisia che dice cioè più che una domanda una considerazione che dice però ragazzi pagare questo tipo di lavoro a tempo e non a progetto non è un controsenso non è un controsenso cioè se ti pagano a tempo e sei bravo e ci metti di meno sei in un certo senso punito perché pagato di meno non credete allora ti dico dal mio punto di vista no perché l'azienda di solito vogliono il lavoro finito nel miglior nel minor tempo possibile sei tu a dare il tuo tempo ti viene fatto un briefing e almeno ovviamente stiamo parlando di progetti molto più piccoli cioè microscopici rispetto ai film della marvel cioè stiamo parlando di film della marvel una persona normale i progetti che almeno su cui lavoro io una formica quindi stiamo parlando di questa proporzione qua mi chiedono o chiedono determinate cose e io gli do un tempo in quel caso è meglio comunque ed è così che si fa essere pagati a tempo e non a progetto perché se ti pagano a progetto il tempo diventa infinito e quando il tempo diventa infinito tu lavori per dieci volte quello che dove quello che è il budget che ti che ti viene assegnato invece queste cose ovviamente come prima ha detto mauro anche un po più in grande vengono e devono assolutamente essere pagati a tempo perché quando tu anche dai una tempistica non ci metti mai di meno e se ci metti di meno sicuramente se dai parlo sempre di un progetto piccolo dieci giorni al massimo sono 9 8 ma sicuramente non sono tre comunque ovviamente qui stiamo parlando di grosse aziende non di noi nel senso ovvio che il progetto nel senso ovvio che a me viene 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 commissionato un video io faccio la regia di un video mi viene pagata la legge del video nel senso ovvio dipende dal tipo di lavoro che fai c'è c'è mamma oca che scrive però non è proprio corretto raccontarla così la storia di vabbè fa una piccola polemica su city project red relativamente al fatto che lo scandalo del crunch fu c'è stato perché insomma non è una roba corretta perché si si stressano un sacco i lavoratori perché di fatto gli si dà una scelta ma non gli si dà una scelta perché gli dice certo dateci una mano oppure c'è nel senso ma serve che voi lavorate così ora io non sto dicendo che sia giusto non era quello il discorso quello che stavo dicendo è che purtroppo nel mondo dei media che siano film o videogiochi succede un po così perché sono quei campi in cui purtroppo il il per la maniera in cui funzionano lo imparo sempre di più facendo ogni ogni volta facciamo come cazzo hanno fatto in cui si settano data di uscita senza sapere se il progetto può essere completato in quella data di uscita molte volte si perché il problema è che un progetto artistico ma ripeto dico artistico perché il mio campo ma probabilmente vale per tutti quanti gli altri campi non ha una data di fine nel senso puoi sempre farlo meglio puoi continuare a migliorarlo puoi continuare a rifinirlo puoi sempre dare una fine certa perché se no non finisci più esatto puoi continuare a farlo sempre meglio essenzialmente non è una cosa che 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 puoi dirti a un certo punto guarda sicuramente entro questa data avremo dato il meglio del meglio di noi e non avremo più nulla da migliorare quindi essenzialmente quello che succede che si dice da prima un si setta da prima una data di uscita quindi ci sono ovviamente le due parti in campo c'è la parte quella produttiva marketing che dice questa data di uscita voglio questa cosa finita e c'è la parte artistica perché c'è sempre per quanto riguarda un film un videogioco un una cosa del genere c'è sempre una parte artistica che dice farò di più di quello che posso ok io ieri durante le prese del corto andrea a un certo punto ha guardato l'inglino inquadratura ha detto mauro non ce la facciamo a c'è tutta sta roba e io ho detto no ce la facciamo ce la facciamo perché voglio fare tutte queste inquadrature non ci riusciamo andremo a mandare di corsa la matina da di corsa siamo andati di corsa perché c'è una parte pratica che dice non possiamo farla c'è una parte artistica invece dice ma io voglio fare di più di quello che mi viene concesso che vuole sempre fare di più e quindi a questa roba va inevitabilmente a scontrarsi quando a certo punto viene detto va bene ok abbiamo due scelte o facciamo una roba mediocre oppure ci facciamo tutti quanti il culo a strisce certo non dormiamo la notte come è successo a segna gli anelli e però facciamo una cosa incredibile chi di voi ci sta e il punto è che ripeto non sto dicendo che sia giusto sto dicendo che spesso funziona così è che dato che tutte quante queste figure sono coinvolte in un lavoro artistico che solitamente vogliono fare da quando sono bambini che insomma sono cose gli piace fare la fanno un lavoro che essenzialmente vogliono fare perché ci tengono al risultato e non ai soldi spesso quello che succede che a mani in cuore contro la propria volontà insomma qualsiasi situazione ripeto non voglio entrare nel merito spesso succede si dice va bene ok pur di far uscire questa cosa bene lavoro 15 ore quello è quello è secondo me una cosa che bisogna vedere ogni singolo progetto ha diciamo delle criticità come si suol dire ogni singolo progetto ci sono delle persone che decidono di impazzirci fino a esplodere oppure delle volte ci sono altri progetti che non vedi l'ora di finire perché li devi semplicemente finire e se ti pagano a ore cosa che succede molte volte si è tremendamente fiscale a me è capitato diverse volte di prolungare di una settimana senza aumento di budget determinate cose e non prolungare neanche di un giorno altre cose questo è poi un po perché in alcuni discorsi alcune volte te lo puoi permettere altre volte non te lo puoi permettere ci sono sempre delle variabili quando si lavora da tra virgolette liberi professionisti sono delle variabili quando si lavora in grosse società come quelle che fanno i videogiochi o che fanno i film lì ci sono tante persone coinvolte in tanti modi si va avanti c'è questa storia del crunch per esempio che mo si chiama grancio prima si chiamava in un altro modo perché c'è da sempre cioè non è che adesso uscita fuori che le aziende scrivendo giustamente io poi ovviamente vivo nel mio mondo sta dicendo succede in qualsiasi lavoro con scadenza succede nel mondo dell'architettura nel mondo della ricerca scientifica nel mondo succede raga dappertutto ovunque c'è ogni volta che c'è una scadenza c'è una scadenza c'è una volontà di fare una cosa meglio del tempo che si ha per farla e c'è è sempre quella cosa di alzare la mano e dire ragazzi io lo so che potrebbe non fregarvelo un cazzo ma c'è mi è successo mi è successo su un set sul set del di tieni gli occhi chiusi il cortometraggio fantasy avevamo avuto dei problemi la mattina e rick duke dice insomma c'erano sotto le persone che avano il proprio lavoro non proprio ma ci arriviamo avevamo avuto dei problemi la mattina essenzialmente era il giorno in cui davamo gira scena di combattimento dovevamo avere la mattina per girare il dialogo e tutto il pomeriggio per gira scena di combattimento a pranzo non ha iniziato a gire niente hanno avuto dei problemi tecnici con la scenografia e noi avevamo solo quel giorno in quale location quindi o ce la giocavamo o non ce la giocavamo la giornata di lavoro sta durando infinite ore noi c'eravamo svegliati alle 8 del mattino ed erano ormai le 11 di sera cioè erano erano passate le 12 ore di set poi una certa di fermi perché non gliela fai esatto e quello che è successo a un certo punto io ho chiesto una mano a simone perché io essendo regista sono a capo del set e la gente ovviamente aspetta a me che io gli dica ok basta ok andiamo a casa e non gliene frega più niente essenzialmente ormai la gente a un certo punto e mi ricordo ho chiesto una mano a simone che è il mio stand coordinator anche il protagonista del corto gli ho detto tantissimo mi dai una mano per favore ho bisogno di capire se riusciamo a portare a casa questa cosa simone mi ha dato una mano abbiamo fatto un discorso alla truppa abbiamo detto ragazzi mi dispiace ci dispiace è stato un imprevisto vi chiediamo un'ultima ora di sforzo chiudiamo questa roba andiamoci a casa abbiamo fatto delle cose fichissime sono stato fortunato di avere una truppa che mi ha detto dai ok ci sono altre situazioni in cui ti dicono no esatto quello poi è tutto quanto nel rapporto che costruisci con le persone che lavorano per te nel senso ovviamente se le tratti di merda e oppure se stai facendo un lavoro di cui non gliene frega niente a nessuno che tutti quanti ritengono brutto semplicemente non ti seguono se invece gli hai dimostrato che in realtà quello che stai facendo è una roba per cui vale la pena non dormire una notte e poi ti seguono sì ma anche nelle grosse produzioni succede questa cosa a me è capitato di mettere piede in produzioni dove all'orario anzi manco all'orario di fine set ma ben mezz'ora o tre quarti d'ora prima di fine set cominciano a chiudere perché poi quello che è smontare il set fa parte dell'orario di lavoro assolutamente e quindi se il reparto elettriciste e macchinisti alle 20 devono chiudere do un orario a cazzo e alle 19 e 15 cominciano a rompere i coglioni che devono chiudere perché loro alle 20 devono chiudere nel senso che se ne devono andare quindi se devono smontare tutto devono cominciare a staccare tutto per esempio alle 19 e 15 ci sono altri set dove mi è capitato sempre di stare dove se alle 20 si chiude magari alle 20 e 15 alle 20 e 30 si finiscono le riprese e poi si smonta come addirittura può succedere che si va avanti nicola dice non so come funziona il cinema nel mondo del software tutto è scadenzato assolutamente anche nel mondo del cinema è tutto scadenzato perché soprattutto nel mondo della post produzione oltre che quello della produzione quindi stando sul set perché non c'è mai una persona sola che lavora la post produzione ma sono più persone che lavorano alla post produzione a fare diverse cose montaggio color correction post produzione audio effetti speciali eccetera 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 ce ne sono a non finire in base al progetto e basandosi solo ed esclusivamente su quella che è la data di consegna o a volte la data di messa in onda a scalare poi vengono scadenzate tutte quante le date e molte volte basta che ne spappola una e spappola tutto il resto perché è una catena poi sta ragazzi c'è il motivo per cui alcune persone allora vengono pagate allora settimana al giorno vengono pagate x e altre persone che vengono pagate x alla seconda il motivo c'è è perché ovviamente ci sono persone che sono molto più affidabili o nel caso di imprevisti che in una produzione cinematografica gli imprevisti ci sono sempre è impossibile pensare che una produzione non ci siano imprevisti più che altro è possibile pensare che sta lavorando con persone che o li riescono a prevedere o che riescono immediatamente a reagire nel modo giusto e quindi di conseguenza gli imprevisti sono più o meno un problema gigante come no e basta io volevo un attimo ricordarmi mauro siamo comunque un'ora e 54 adesso chiudiamo volevo giusto allora c'è a san giorgio che prima o poi te banno te giuro passa da giorgio a san giorgio io passa da domande tremendamente interessanti a cazzate a torino mi fa impazzire allora io lo dico c'era gin champ che faceva una poi chiudiamo questo discorso c'era gin champ che faceva una precisazione riguardo al crunch che è diventato un problema perché non è il discorso di quanto ami il progetto ma il discorso che i publisher mettono una data e per mesi quindi si lavora a orari improponibili semplicemente perché qualcuno ha messo una data che non può essere fisicamente rispettata eccetera eccetera ora purtroppo ripeto non è solo nei videogiochi io mi ricordo che se vi guardate se siete degli appassionati del signori anelli e avete visto il making of the signori anelli sapete che la alla ueta digital hanno dormito all'interno degli studi per praticamente due mesi e che l'ultimo export del film dell'hobbit ricordo è stato fatto la mattina della premiere essenzialmente quindi purtroppo non sto dicendo che sia giusto o bello sto solo dicendo che è un po uno standard per questo tipo di lavoro in cui la produzione mette un cioè nel senso non so se è una maniera cioè se quanto sia giusto e però è sempre un po successo che alla fine la la gloria tra virgolette la i grandi sono quelli che di fatto mettono il proprio lavoro e la propria passione davanti a tutto e fanno il triplo di quello che dovevano fare anche se non gli era se non gli era dovuto perché poi ripeto non è che queste persone vengono frustate e costrette a fare questa cosa volete lavorare 18 ore al giorno per una paga molto più alta e il problema ovviamente uno stress fisico perché dice io io forse non voglio cioè io non voglio farlo essenzialmente non voglio lavorare 18 ore al giorno anche se me pagatevi lavorare 18 ore al giorno perché mi sento stressato e ci sta però a me una domanda una roba che mi fa che pazzesca per me e sono i casi tipo quello di satori wata che è un che era un grande tra l'altro aspetta era o è ancora no è morto no questo aspetta aspetta sì sì è morto nel 2015 è arrivata che era un autore di videogiochi che è stato a nintendo per anni e che è stato responsabile da solo per la riduzione della mappa dei dati di pokemon oro e argento praticamente non la mappa come la sta programmata inizialmente era troppo troppo grande e non c'entrava nella cartuccia e lui disse va bene ragazzi me la vedo io e da solo riuscì a riprogrammare tutta la mappa per farla entrare nella cartuccia e è uno dei più grandi cioè che è considerato nei programmatori di videogiochi incredibili che faceva dei miracoli pazzeschi e lo faceva perché non dormiva la notte cioè non stava a casa mai pensava solo al lavoro e faceva solamente quello quindi capita o sì purtroppo è un po colpa del della non si ripeto non so quanto è giusto e non lo sto dicendo che sia ecco sia una deve essere un'aspirazione di tutti noi quella di distruggere la propria vita privata in 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 favore di un una grandezza nel mondo del dell'arte in generale del del campo che ci interessa però purtroppo succede ed è una roba che non che non so come come gestire essenzialmente come come giudicare noi probabilmente non lo viviamo piano anche se io per esempio il periodo di non so se tutti conoscono qua dentro la serie fricks 2 il periodo della serie fricks 2 non mi muovevo da casa e non alzavo la sedia non alzavo il culo dalla sedia se non per mangiare andare in bagno dormire e dormire manco tanto perché la puntata mi arrivava tutta quanta tutto il girato io cominciavo a montare il lunedì martedì e mercoledì finivo consegnavo all'audio nel frattempo lavoravo agli effetti speciali venerdì mi arrivavano e mi arrivava l'audio mi arrivavano gli effetti speciali caricavo sul server di radio dj perché la puntata andava anche su djdv e io dormivo la domenica e basta io mi facevo notti da lunedì a domenica io c'erano notti dove dormivo un'ora un'ora e mezza poi fortunatamente ovviamente in tutto quel periodo folle che per me è durato tre mesi quasi qua davanti a esplodere in tutto quel periodo folle c'erano anche delle volte in cui io avevo finito quello che dovevo fare e c'erano altre persone che stavano facendo delle cose che poi mi dovevo mandare il dietro in materiale e quindi ci avevo ogni tanto tipo alle tre del pomeriggio quelle tre o quattro ore per riuscire a dormire un po di più ma io ho fatto così non è una questione di in quel caso come qualcuno ha scritto giustamente purtroppo poi diventa anche una questione di pressione psicologica nel senso diventa difficile dire di no perché senti che tutti fanno così ti senti che sono d'accordo non sto dicendo ripeto non sto dicendo che sia giusto e che dobbiamo tutti quanti dormire un'ora notte perché è giusto così dico solo che purtroppo è una roba che succede molto spesso ma una roba che succede praticamente sempre mauro e cioè quasi sempre la la corsa finale al photo finish è quasi sempre devo dire che onestamente per esempio in uno degli ultimi progetti dove la post produzione era non so perché calcolata in tre settimane io finito in due e adesso sto aspettando però succede anche questo sui progetti personali fichissimi giganteschi non succede mai comunque siamo stati anche con te a volte la notte a montare delle cose te una volta sei venuto qua che erano le 11 di sera che dovevamo finire una roba che poi il giorno dopo doveva andare cioè però si fa c'è a volte si vedo è una roba è una roba che deve stare a noi nel senso l'importante che ovviamente non 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 esca mai fuori un una struttura nella quale se non lo fai sei un cretino e viene un problema però però che che volete che troppo in alcuni casi forse succede pure quello va bene al di là di queste cose tristissime finiamola qui che andiamo un attimo con i con i con le le cose finale allora voi perché io purtroppo questo mercoledì non ci sarò in opinioni pericolose verrò sostituito dal incredibile ed irreprensibile gianni pazzesco e quindi su questo canale ci si ritrova mercoledì con le le cose cose e abbiamo detto con il grande grandissimo grandissimo doppiatore di robert da un angelo maggio ma senti una cosa ma venerdì questo esce una roba di allora aspetta che risponda fraff 00 poveretto poveretta gari che ha scritto la stessa cosa da un'ora a che film state lavorando a nessuno magari io però da un corto di a lui sta lavorando un cortometraggio mauro che sicuramente sul suo canale che è spuntato adesso che l'ha tirato fuori andrea 00 skills vedrete delle cose però film nessuno magari a quest'ora e mauro però venerdì se non sbaglio esce come cazzo hanno fatto esce un come cazzo hanno fatto io abbiamo girato in quarantena tra l'altro per chi prima scrivesse mauro ma tu non hai fatto la quarantena si l'ho fatta e che io l'ultimo contatto con marco ce l'ho avuto secoli fa e quindi esatto ma non solo ma io sia io e mauro abbiamo fatto il tampone lo stesso giorno e ha tutte e due risultato negativo quindi quindi dicevo quindi quello che succede è che dicevo mercoledì opinioni pericolose su questo canale twitch domenica come al solito c'è quasi quiz mentre venerdì questo venerdì che venerdì 30 su youtube slim dogs esce un come cazzo hanno fatto girato in quarantena da me e marco che parla dei film di halloween ovviamente perché nel senso uno speciale di halloween si sta avvicinando halloween abbiamo fatto uno speciale sul film di halloween lo sto finendo di montare un film lo dici uno dei film di quali state parlando solo uno gremlins ah bello che richiedevano tutti abbiamo finalmente lavorato a gremlins quindi bello questo è invece vi ricordo che giovanni santonocito non è un cretino qualsiasi no si lo è dino speciale e infatti c'è il suo canale youtube se scrivete punto esclamativo giovanni sempre twitch youtube e twitch scusami c'è anche il suo canale youtube ma meglio se non lo andate a vedere c'è il canale twitch se scrivete punto esclamativo giovanni trovate il canale di giovanni dove gioca a tutte cose e parla di tutte cose sai che volevo fare una cosa per halloween ma non posso farla volevi fare la discoteca mi hanno detto guarda zio magari evita cioè ma proprio in maniera molto tranquilla nessuno mi ha voluto dire no però mi hanno detto ma magari con la discoteca proprio evita e io va bene dai non lo faccio mi dispiace giovanni e invece io vi volevo ricordare che c'è un canale twitch che trovate appunto esclamativo mauro ovvero 000 skills e domani parlerò probabilmente parleremo di borat e di come è riuscito a fare quelle cacate incredibili riuscito a fare nel film ma tu l'hai visto l'ho visto l'altro ieri come è come l'altro nel senso è molto dissacrante e borat e borat borat ma tu per halloween che fai tattacchi arcane che fai c'è fiorenza che ci tiene tantissimo a fare a fare qualcosa dallo io sono un po misantropo a me piace stare a casa a me piace stare a casa fame cazzi mia sempre nel senso in qualsiasi occasione però invece fiorenza ci teneva tanto a festeggiare halloween infatti stamattina ha ritagliato di fantasmini di carta di quelli che poi li apri e sono tutti i fantasmini ha iniziato a prenderli per tutta casa perché quantomeno vuole che casa sia arredata in stile halloween anche me però un sacco festeggiare halloween perché lo faccio sempre ogni anno però quest'anno ovviamente se ne stiamo a casa domani viene martina la mia compagna qua quello che faremo però scusa ma nel mio canale twitch per la sera di halloween è ovviamente vediamo un horror vediamo un horror che si chiama the descent lo vediamo in watch party ed è un horror della madonna the descent dai si sia un bello the descent è un horror veramente la madonna e dico raga perdonai ma fiorenza è la ragazza di mauro si lo è ed è anche lei con me sul canale 000 skills esatto e infatti dovete andare su quel canale non tanto per vedere mauro ma per vedere fiorenza che è la parte più bella del canale e basta niente ragazzi grazie a tutti vi ricordiamo per l'ennesima volta mercoledì sera 21 e 30 opinioni pericolose mauro purtroppo non c'è ma c'è qualcuno che lo sostituisce ma soprattutto questo mercoledì ci sarà grandissimo ospite angelo maggio il doppiatore giusto per dirne una quella più importante negli ultimi anni di robert downy junior e basta mauro grazie mille buonanotte e noi ci vediamo presto prestissimo presto se andate a vedere siccome leggo andate a vedere il tubo di joe su youtube la cosa più interessante che c'è in quel canale probabilmente il tubo di joe che ovviamente sì c'è un doppio senso in questo è ovvio era l'intervista una un'intervista a uno shy a un alessandro masala ancora poco conosciuto su youtube ai tempi molto poco conosciuto ai tempi è bella quell'intervista che follia sì sì è stato no mi ricordo veramente quando vedi il suo canale per la prima volta fu folgorazione immediata ha detto questo spacca il culo nel tempo di in pochissimo tempo ed effettivamente super shy che ancora ci sentiamo ogni tanto sai ogni tanto ci iscriviamo mi fa molto piacere questa cosa va bene basta abbiamo finito con i cazzi nostri buonanotte mauro buonanotte giovanni buonanotte a tutti ragazzi a mercoledì ciao 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 ciao